Il derby va vinto, il tifoso della Lazio e della Roma il derby lo vuole vincere Per me la bravura di un grande allenatore è riuscire a trovare la quadra di quando devi andare a vincere in maniera brutale A volte per vincere tu devi scendere a compromessi con te stesso Per me Ranieri ha dato dei valori fondamentali per rimanere in A Il momento simbolo del Cagliari è quando Ranieri aveva detto alla squadra che se ne sarebbe andato E la squadra gli ha chiesto di rimanere Senza Ranieri il Cagliari non va da nessuna parte È una masterclass tattica quella della Juve Io da amante della tattica mi gaso quando vedo queste cose qua Però per me la risposta sta nel se tu non alleni questi concetti Se tu non ci credi in questi concetti Poi ritorni indietro e infatti la Juve cambia proprio modulo Ci sono pochi giocatori che possono essere chiamati campioni in questa Serie A Pulisic è sicuramente uno dei primi due o tre La vera forza di Pulisic quest'anno si vede a Monza La ripresa entrano vari giocatori tra cui Pulisic E il Milan è in dieci a un certo punto Pulisic sta per vincere la partita Da solo Aprite il vostro cuore alla Serie B Scegliete la partita più vicina che avete E regalatevi un sabato pomeriggio così Perché vi garantisco che vi riaccende qualcosa dentro E tante volte ormai il tifoso va allo stadio Con la pretesa di dover vedere sempre delle partite spettacolari Quando invece forse il ruolo del tifoso È proprio quello di andare allo stadio Godersi la partita ed essere tifoso a tutti gli effetti È tipo il ti amo anche se vinci Allora è lunedì Sono stanco morto perché vengo da una due giorni a Palermo Che veramente non mi ha fatto dormire Forse diciamo 5-6 ore in tre notti Dai ma comunque va benissimo Perché c'è tutto in the box Quindi dobbiamo parlare necessariamente di calcio Anche perché oggi abbiamo veramente un ospite Che è d'onore innanzitutto E poi mi fa veramente molto piacere averlo qua Abbiamo il buon Francesco Pietarella Giornalista di Gazzetta dello Sport Forse l'avete cominciato a sentire Soprattutto nell'ultimo periodo Perché illusioni sta spaccando Il podcast sta salendo tutte le classifiche Ciao Fra, grazie per essere venuto No grazie a te per l'invito Grazie a voi, sì insomma è iniziato come un gioco Questa idea di riuscire a raccontare in qualche modo Quei giocatori che hanno illuso cuori Hanno illuso tifosi in campo eccetera E quindi poi raccontare la loro storia Proprio sviscerandola in più forme E quindi è apprezzato Quindi si trattano di vari giocatori Krasic, Diego, Jovetic Domani uscirà la prossima sul Tarapt Del Milan Che comunque fece sei mesi di alto livello E non fu riscattato Insomma ci rimase molto male Quindi insomma questa è la traccia Mauro Sarate Insomma diversi giocatori di questo tipo Che ecco non sono campioni Però hanno avuto dei picchi In cui sembrava fossero dei campioni Noi stiamo ascoltando le tue storie Perché sono belle Perché effettivamente poi Sono talenti Che sono un po' quelle meteore del calcio Che hanno fatto sognare Poi però si sono un po' fermate lì Al mio fianco Non abbiamo solo fra Ma dato che avevamo finito il budget Abbiamo dovuto chiamare il critico Edo Romero Ciao a tutti ragazzi Ciao ragazzi Ci dobbiamo accontentare di È andata così È andata così Tra l'altro oggi Tre romani contro uno Contro uno Sono circondati Infatti ormai parlo come voi Beh lo devi migliorare un po' Qualche Qualcosina Ho ancora tanto da fare Lasciatemi salutare i nostri amici in chat Siamo già in tantissimi Lasciatemi salutare anche gli amici di YouTube Che ci seguono da lì Gli amici di Apple Podcast Di Spotify Che preferiscono sempre ascoltarci Piuttosto che vederci Comunque non hanno tutti i torti Perché comunque non si perdono sicuramente niente Non abbiamo nulla da offrire Detto ciò Detto ciò lo so che te ti offendi sempre No io mi offendo Ti dici parla per te Esatto Giustamente Ragazzi continuate a supportarci Con le vostre interazioni I vostri like Commenti su YouTube Le vostre iscrizioni al canale Anche le vostre sub Se volete offrirci il vostro caffè Perché per noi è sempre molto importante Per mandare avanti tutta la macchina Direi che ragazzi possiamo cominciare Ringrazio intanto Matte Manto per la sub Se ho visto bene Esatto per i tre mesi Grazie mille Matte Ciao a tutti ragazzi Adesso cominciamo E direi di partire dal derby di Roma Vinto dalla Roma Con una Roma che sta volando Con un De Rossi che sta volando Però Roma e De Rossi volano Concedetemi la battuta Con una partita un po' murignana Se vogliamo Cioè Non sapevo che Murigno fosse Nello staff tecnico di De Rossi No a parte gli scherzi Mi è sembrato di rivedere un po' Quel mood lì Quindi Partita vinta con Un calcio piazzato Con un calcio d'angolo Gol di Mancini Primo tempo Se vogliamo anche abbastanza equilibrato Forse anche più Roma Rispetto alla Lazio Nel secondo tempo Invece a parte Quel bel contropiede Condotto da Lukaku Con il palo Colpito poi dai Sharawi Per il resto Una Roma che sostanzialmente Non ha superato la metà campo Si è arroccata dietro Possesso palla nettamente A favore della Lazio di Tudor E soprattutto Partita poi messa Veramente sull'aspetto Nervoso Sul piano nervoso Sul piano agonistico Non so che lettura date A questa vittoria Fatto sta che però La Roma con il pareggio La fronte del Bologna È a meno 3 Dal quarto posto Che insomma fino A poche settimane fa Sembrava veramente utopia Beh ti dico Purtroppo il derby di Roma Sta diventando una costante Che sia brutto Perché Quelli di quest'anno Soprattutto il primo 0-0 D'andata E anche quello di Coppa Italia Dove ha vinto la Lazio Non sono stati dei derby Indimenticabili Da un punto di vista del gioco Purtroppo Perché comunque Negli anni anche Precedenti con Sarri Ma anche con Inzaghi La Lazio Eccetera C'erano stati Degli ottimi derby Vinti da entrambe le squadre Mi ricordo anche Il derby del 3-0 Di Abram Dopo pochi minuti Anche quello lì Fu un derby ucciso Immediatamente dalla Roma Con doppietta Il punto di Abram E poi Pellegrini Su punizione Quindi un ottimo gesto tecnico Però è stato un derby brutto La Roma ha giocato L'Armurigno E come ha detto Sarri Oggi c'era un virgolettato Proprio di Sarri Sul messaggero Ha detto che La Lazio Ha giocato alla lui E l'ha detto anche Tudor Nel post partita Quando ha analizzato la sfida Ha detto Ci sono giocatori Che hanno giocato alla Sarri E non hanno ancora Come è giusto che sia Secondo me È normale Che sia Non hanno ancora Non sono ancora riusciti A capire quello che voglio Che è totalmente differente Quindi secondo me Come De Rossi Da giocatore Non ne giocava Di grandi Di derby Da allenatore Per me L'ha sentita parecchio Su tutte le sue spalle E questo forse Un po' si è visto Anche nelle risultanze Finale È vero È stata anche una risultanza Secondo me Di cuore Da come è lui De Rossi È questa roba Si è proprio Stretto Nei suoi collaboratori Immagina molto bella Immerso Però ecco Secondo me È stato un derby Dove non è emersa La qualità Di entrambe le squadre Che c'è E poi secondo me Anche delle storture Oppure Giocatori palesemente In calo Penso a Immobile Che nei derby È quasi sempre stato Un giocatore decisivo Purtroppo è un giocatore Che è in un calo fisico E soprattutto mentale Incredibile Incredibile Questa sarà La vera sfida della Lazio Secondo me Il prossimo anno Trovare un giocatore Che possa segnare Quell'occasione Che ha nel primo tempo Non è roba da lui Sbagliare Con quella lentezza Quest'anno sono tante Penso anche al Bayern Penso anche al Milan Con la Lazio in 10 E lui la possibilità Di portarla in vantaggio Sono tante Sicuramente non è tranquillo E anzi Un po' questa riconoscenza Un po' che c'è Per me è palese Che Castellanos Nonostante non abbia gol in più Ma è palese Che faccia un lavoro Un lavoro superiore Da un punto di vista Tecnico Sì Tecnico E di associativo Con la squadra Sicuramente superiore Secondo me Sono due squadre Che in questo momento Come diceva Benissimo Francesco Anche nella Roma Ci metto il calo Dei singoli E secondo me È strettamente correlato A questo ultimo Passaggio Della Roma Perché la Roma Viene anche da Lecce In cui nel primo tempo Se finisce 2-3 a 0 Per il Lecce O a 0 Comunque il Lecce Se fa 2-3 gol Non ruba nulla Quindi Prima di tutto Merito A De Rossi Nel non perdere Lo status Attuale Della Roma Con delle prestazioni Magari Non all'altezza Delle prime uscite Ma devi per forza Di cose Accettare Questa possibilità Perché Prima di tutto Sei un allenatore in corsa Quindi I tuoi giocatori Hanno ricevuto Dei concetti nuovi Ma non hai avuto modo Di lavorarci Durante l'estate Quindi è normale Che a un certo punto Ci sia un calo Se raccogli i punti In questa fase Vuol dire Che hai Lo spogliatoio in mano Vuol dire anche Che secondo me Hai In questo momento Dei giocatori decisivi Che non sono In forma Di Bala non è in forma Lukaku Non è in forma Anche se Il cambio Patrick Non so che ne pensate Ma l'ha facilitato tanto Patrick Romagnoli Nonostante Romagnoli Abbiamo una colpa Abbastanza evidente Sul gol Subito dalla Lazio Però comunque È stata È stata anche quella Cioè la Roma Anche Pellegrini Non ha trovato Nei suoi uomini Da un punto di vista Offensivo Degli spunti Interessanti Li ha trovati Difensivamente Perché se penso Alla partita di El Sharawi Se penso alla partita Di Pellegrini Se penso alla partita Di Bala Sono partite Murignane Nel senso che Capiscono il significato Della partita Si sacrificano E probabilmente Ci sarà modo Per migliorare Da un punto di vista Offensivo Ancora una volta Diciamo che Lo intendevo Proprio di più Per il piano Proprio su cui È stata messa La partita Nel senso che Finalmente Avevamo ricominciato A vedere Una Roma Che proponeva calcio E si preoccupava Più della sua prestazione Della sua offerta Di calcio Piuttosto che Di stare a fare La partita E la guerra Contro l'arbitro Noi invece L'altro giorno Forse un po' a metà Però Ha una certa Ho avuto l'impressione Che la Roma L'unica cosa A cui si potesse Aggrappare Era quella lì E quando anche Di Bala Poi Da corda Si tira via Il parastinco E lo fa vedere Che così Allora dico Se anche Di Bala Si è messo su questo piano Vuol dire che la Roma Oggi farà questa partita E la porterà avanti così Da una parte E dall'altra Per noi Cresciuti a Roma Poi io Diciamo da neutrale Vivo tutte e due Tutti gli anni No ma il derby È una partita come le altre No gli altri Sono provinciali Perché pensano al derby Poi la verità È che comunque È romanista È laziale E anche le squadre Glielo trasferiscono I tifosi Lo trasferiscono Nella settimana E è molto difficile Che possa riuscire Una partita serena E romano Cioè i vari De Rossi Pellegrini C'è anche Cataldi Romagnoli stesso Pellegrini dall'altra parte Esatto Luca Pellegrini Cioè È una partita Veramente a parte Ed è difficile Poi spiegarla A chi Non la segue È anche diverso Da Milano Da Torino È un clima Proprio a sé E soprattutto Arrivava da Cioè c'era questa Ritorica Che poi è stata confermata Del derby Di De Rossi Che da giocatore Di derby Non ne ha mai giocati Tanti ad alti livelli Ricordiamo quello di Ranieri In cui sostituisce Lui e Totti All'intervallo E poi la Roma Vince il derby Nel 2010 Con quel tipo di Con il rigore Poi sbagliato da Flockari E poi Cioè Quindi comunque Parliamo di Di un livello Che non si può spiegare E per me Questo Questa cosa qua Fa la differenza Cioè il valore Della partita Il valore del derby Che non è una partita Come le altre Perché la Roma Ha rifilato Quattro gol al Brighton Di De Zerbi Cioè di De Zerbi Se ne parla Veramente come Di un possibile Futuro Al posto di Guardiola Nei prossimi anni Cioè se ne parla In Inghilterra Bene Poi i singoli Del Brighton Secondo me Non valgono Quelli della Roma Cioè la Roma Come singoli Se li metti tutti insieme Soprattutto anche In quella partita Sì Esatto Che c'erano molte assenze Poi come gioco Come insieme Non c'è assolutamente Paragone Anche perché De Rossi È un allenatore giovane Deve migliorare molto E deve calarsi Però Per me De Rossi Può ricoprire Quello che ha fatto Simone Inzaghi Alla Lazio Come dinamiche Come dinamiche Di situazioni Di gioco Può essere Quello che ha fatto Inzaghi Può farlo De Rossi Cioè aprire un ciclo Sì esatto Aprire quel ciclo lì Legato alla piazza Arrivato dopo Anche lì Dopo un esonero Ovviamente In Pioli Non era Murigno Però comunque Arrivava da un anno Dove la Lazio Era arrivata terza E non era riuscito A farlo per molti anni Insomma la Lazio Ha sfumato Qualificazioni in Champions Sclamorose Quindi per me Può avere Quel tipo di Continuità De Rossi Perché è difficile Cioè francamente Sì Difficile non confermare De Rossi Soprattutto se dovesse Passare in semifinale Di Europa League Arrivi in Champions Questo è un obiettivo Minimo Scusa Non minimo Un obiettivo grande Quindi per me De Rossi è difficile Ad oggi Andarlo via Per come ha sumentato Forse è un obiettivo massimo Massimo Sì sì È un obiettivo massimo Poi credo che Ormai sia scontato Cioè ormai Credo sia saldamente Sulla panchina della Roma Ripeto Secondo me Con tutti i buoni Presupposti Che possono Che possono derivare Sfrutto anche un po' L'assist Su De Zerbi Che hai fatto fra Perché È un tema A me caro Questo Anche un po' Quello del contesto Del fatto che magari Tante volte si parla Di allenatori Promettenti Che poi Quando arrivano E si devono calare In certe realtà Devono fare magari Anche certi compromessi Tra quella che può essere La propria idea Che magari richiede tempo E quindi comporta Anche qualche scivolone In più In campo E quelli che sono I risultati Che invece La piazza Ti chiede E la dirigenza Ti chiede Quindi la domanda Che faccio a voi La faccio anche un po' Agli amici in chat È questa Secondo voi Abbiamo detto Che De Rossi Ha sentito tanto Questo derby E si è visto comunque Anche nell'esultanza Nello sfogo finale È stato forse Il primo vero compromesso Di De Rossi Da quando si è seduto Sulla panchina Della Roma Cioè La prima vera partita In cui ho detto Oggi voglio vincerla Non me ne frega niente Del come Cioè Non c'è un prima Non c'è un dopo Oggi devo portare a casa I tre punti Non so se sia la prima Io so solo che Forse la narrazione Che facciamo Un po' Del calcio In questo momento Ci porta a pensare Che queste cose Siano Cioè A sottolinearle Come giustamente Stai facendo te Però io credo Che invece Questa cosa qui Accada Molto più spesso Di quello Che noi pensiamo Le partite di calcio Tra l'altro Hanno delle sfumature All'interno Che spesso Diventi mulignano Per 15 minuti E poi Sei guardiola Per gli altri 15 Quindi secondo me Non so se sia la prima Perché ripeto Magari a Lecce Con una difesa Molto più blanda Però per quello Lecce è riuscita Però comunque Magari delle difficoltà Perché i singoli Non stanno in forma Perché magari le squadre Iniziano anche a studiarti Perché adesso Il 3-2-5 In sviluppo Lo sanno Che il Karsdorp O comunque l'esterno Alto Si alza tanto Quindi C'è tutto questo Ma secondo me Capita Spessissimo A qualsiasi tipo Di allenatore Di incappare In delle giornate Del genere Secondo me La differenza sta Ne parlavamo prima Con il ciclo Pioli Per esempio Quando Pioli Fa il 3-2-5 Il 5-3-2 Contro l'Inter Con il Milan Ci crede poco Se tu invece Riesci a trasferire I tuoi giocatori Il 3-2-5 In sviluppo Con Karsdorp Che diventa Cancelo Passatemi il termine Ovviamente E con Invece Questa invece La dobbiamo vincere Perché dobbiamo portare A casa i tre punti Una partita sporca Un derby Vuol dire Comunque Sicuramente Hai saldo Lo spirito della squadra È già una cosa Sì Anche secondo me Poi il derby Io ti dico Il derby va vinto E non importa come Quindi questo è un valore Che tutti quanti Forse negli ultimi anni Tutti l'hanno capito Anche Sarri L'ha capito Questa cosa qua Che comunque per lui Il come è tutto Quindi Per me il derby Va vinto Quindi questo passa Alla gente Perché poi Alla fine Uno si gioca Anche per Per la gente Per il tifoso Il tifoso della Lazio Della Roma E il derby Lo vuole vincere E basta Questo lo vuole vincere Anche gli altri Però magari Da altre parti Il come Può anche contare Un pochino di più E quindi Giustamente De Rossi Ha vinto il derby Giocando Anche lì Uno dei derby Diciamo Non indimenticabili Come erano state Quando è stata l'andata Come è stata la Coppa Italia Che ha vinto il Lazio Quindi questo conta E per me Una bravura Di un grande allenatore Che Murigno È sempre stato Un fenomeno In questo È riuscire A trovare La quadra Di quando Devi andare A vincere In maniera sporca In maniera brutale Ed è quello Che ha fatto lui Il manifesto Della sua carriera Barcellona-Inter Che è il manifesto Perfetto Di come a volte Per vincere Per ottenere Quello che vuoi Tu devi scendere A compromessi Con te stesso In quel caso Con te stesso Magari meno Perché Murigno È sempre stato così Però per altri allenatori Il gioco Le punte Che salgono Il regista Basso Il 2-5 A volte Conta soltanto Portare a casa Il risultato Ed è quello Che fece Murigno Che poi fece Un'intervista Molto interessante Anni dopo Parlando di quel Barcellona-Inter Disse io Quella partita La dovevo vincere Quindi ero consapevole Che Edo doveva fare Quello che doveva fare Panda doveva fare Quello che doveva fare Soprattutto in 10 Perché poi c'era l'espulsione E quindi Secondo me Questo è Cioè tu sei un fenomeno Anche se fai questo Poi di Guardiola Ne nasce uno Nei 50 anni E quindi Guardiola Può permettersi di fare Non so se l'avete visto È uscita la serie Netflix Non ancora Non ancora E lui in questa serie Si vede proprio Come lui vince La finale di Champions Facendo quel discorso Che è una lettura Che poi si vede Però è una lettura tattica Cioè non è una lettura È una lettura Proprio di situazione E lui la vince tatticamente E secondo me Uno ce n'è Che può fare una cosa Che poi in finale di Champions In finale di Champions Che tu tatticamente La partita Non so quanto Ti possono ascoltare Si alza Si alza Stonzo Si alza Kanji Palla filtrante Poi è chiaro Anche fortuna Ma poi Lugaku Secondo me La cosa più giusta Di tutto questo Intanto avete visto Ragazzi vi ricordo L'appuntamento Alle 14.55 Con Servi della chat Quindi cominciate A preparare le vostre domande Che poi le leggiamo E dicevo La cosa più giusta Che io sento anche un po' Su questo tema qua Che ho aperto È che Queste partite Ci stanno E anzi Ci vogliono Perché poi sono anche quelle Che magari Caricano lo spogliatoio Sono quelle che ti fanno dire Poi una volta che chiudi Le porte lo spogliatoio Che ragazzi Ce l'abbiamo fatta E ce la possiamo fare Perché se vinciamo E se portiamo a casa Queste partite Allora Davvero gli altri Ci devono temere E noi non dobbiamo Avere paura di nessuno L'importante Che probabilmente Non sia La regola La regola Esatto Ma che sia piuttosto L'eccezione Infatti il derby Possiamo considerarla Un'eccezione Cioè per me Neanche con Guardiola Si può Pensare di vedere Un derby Incredibile A livello di gioco Ormai Secondo me Anzi Se un allenatore Si cala nella parte E capisce l'ambiente L'ambiente di Roma L'ambiente della Lazio È quasi costretto A giocare in questo modo E a scendere ad un gioco Magari meno bello Ma più Verso l'obiettivo Della vittoria Perché i tifosi Ha fatto bellissimo Il discorso Che dicono tanto Provinciale te Che pensi al derby Ma ne determina La dignità del tifoso Per i sei mesi seguenti Che poi credo Pure un giocatore Cioè Tu puoi essere Devi essere molto bravo A trasferire dei concetti A prescindere Dalla situazione Che ti Sta succedendo attorno Cioè tu sei in un derby O eri fuori casa In cui quindi hai anche Diciamo Le tribune Contro No In un clima Che ti accorgi Fin da subito Ne parlava Ne parlava Ambrosini In telecronaca Lui non ha vissuto Il derby Roma Ma diceva Cioè noi in campo Ci prendiamo dei minuti Per guardare le coreografie Immagina Immagina Lo capisci Che è una partita diversa E quindi Tu ti puoi anche Mettere a A parlare Poi storicamente Roma e Lazio Senza nulla togliere Magari non hanno avuto Neanche quei grandissimi Campioni Mentalmente Diversi Che tu dici C'è Dani Alves In campo Magari Non gli interessa Granché Magari Ammarusic Da una parte Selic Che dall'altra La senti La senti più delle altre Esatto Invece Passando Sull'altra sponda Di Roma Quindi Lazio Che impressioni Vi ha fatto Tudor In queste prime Tre uscite Giusto Tre partite Ha fatto Juve-Juve-Roma Juve-Juve-Roma Che idee Vi siete fatti Ti dico Lui è uno Di Un allenatore Di carattere Cioè Mi ha colpito Il dialogo Con Castellanos Prima della Juventus Quando è andato lì E gli ha detto Guarda Guarda che dall'altra parte C'è Bremer Cioè Bremer è uno dei migliori al mondo Cioè Devi essere casato Secondo me È quell'allenatore lì C'è un allenatore Che magari predilige Questo tipo di rapporto Con i suoi Perché secondo me Esistono allenatori di gioco E di carattere Lui è sicuramente Ad oggi Uno di carattere Più che di gioco Insomma Gioco ha fatto vedere Delle cose buone Al Marsiglia Però ecco Non è che abbia Queste identità forte Che tu riconosci Le sue squadre Però come carattere È un allenatore Che Che può dare Quella scossa lì Infatti esordio Vittoria al 92esimo Poi Comunque sono partite Molto difficili Tutte e tre Il derby Dove comunque Hai provato Perché comunque Nel secondo tempo La Lazio è uscita fuori Ha fatto questi tre cambi Tutti a fine primo tempo Proprio per dare un segnale Secondo me Tutor è quell'allenatore lì È chiaro che Si parlava di palladino La Lazio Prima che Sarri Fosse esonerato Adesso credo che Tutor Molto Probabilmente Resterà Lui Alla guida della Lazio Anche il prossimo anno Sarà interessante capire Il mercato della Lazio Perché Molti giocatori Sono al fine ciclo Un ciclo di cui anche Sarri Ha beneficiato Questo va detto Perché comunque Insomma Il secondo posto di Sarri È anche frutto Di un ciclo precedente Quello di Nzaki Però molti adesso Sono alla fine Per me A quelli che Sono arrivati Alcuni Non sono adeguati Ma ti faccio una domanda Perché l'ho tirata fuori Dal tavolo Settimana scorsa Secondo te Può succedere Che magari L'allenatore Consapevole del fatto Che non è la sua squadra Se parlano di Tudor Magari Non dia tutto A livello di insegnamenti Di ciò che va Ad impartire A curare O a preparare Nel corso della settimana Perché comunque Lo fa magari Per un fatto Non dico di spreco Di tempo Ma nel senso Che probabilmente In questo momento Starà di investire Tanto tempo In un qualcosa Sapendo che poi Il prossimo anno Ti cambierà Quello che può essere Il blocco squadra Ma anche magari Per un fatto puramente Di gelosia Cioè c'è qualcuno Che magari Il prossimo anno Diventa tuo diretto rivale Perché io ti devo dare Tutto in questo momento qua Sapendo che manca Un mese e mezzo Mancano sette partite Da qua alla fine Secondo me No Per un semplice fatto Che gli allenatori Sono tutti narcisisti Quindi detestano Vedere Perdere le proprie squadre Anche una Due Una partita Quindi secondo me Tudor è uno Che adesso ha pensato Questa è la mia occasione La migliore occasione Che sto avendo Per me quindi Devo dare tutto E devo dimostrare Che nonostante Ci siano difficoltà Nonostante i giocatori Palesemente Arrivati alla fine Di un percorso Io devo 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 entrare duro Capito come faceva Da giocatore In difesa Quindi secondo me Secondo me no Poi secondo me C'è anche un altro aspetto Sono d'accordo Anche secondo me no Sono pochi gli allenatori Che si possono permettere In corsa Di poter Cambiare metodo No Di cambiare metodo Cioè capito Io ti dico Ok Cambio Magari Diamo per Per assodato Che lui non voglia Magari svelarsi Durante la settimana Lui sa fare quelle cose Cioè ha studiato E crede in quelle cose Non è facile poi Quindi per questo credo Che comunque Un allenatore Insegna quello che ha Da insegnare Quello che ha studiato Quello che crede Che sia la cosa migliore Poi per Tudor In queste tre partite Secondo me La Lazio Si è presa un vantaggio Secondo me La Lazio Non si aspettava nulla E non si deve Aspettare nulla Da queste partite Di campionato La colpa Diciamo Di Tudor È prendere Quei due gol Contro la Juventus E probabilmente Di giocare meglio La Coppa Italia Ma Dal punto di vista Di campionato Secondo me Si è presa un vantaggio Nel Mettere dentro Un allenatore Fargli capire Che cosa gli può servire Per il prossimo anno Mettere dentro Idee per il mercato Tutto quello che viene Da qui Alle prossime settimane Per quello che diceva Francesco L'abbiamo detto Anche noi qui Analizzando Cioè sono due mondi Talmente differenti Che in una settimana E tra l'altro Si è visto Perché la Lazio Continua ad avere Adesso Nella cosa più facile Da vedere Più Diciamo Agli opposti È il pressing Con riferimento uomo Riferimento palla Adesso è un ibrido Totale Qualcuno si ricorda Ogni tanto Di andare a uomo Qualcuno si ricorda Di andare con la palla Non è facile Infatti I gol che prendi Con la Juve Sono un mix Di tutta quella cosa lì Lui l'ha detto Ci sono giocatori Che seguono L'indicazione di Sari Ma è normale Sari è un ossessionato Un metodico Da un punto di vista tattico Per due anni e mezzo Due anni e mezzo Martello 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 È normale Che tu Alcune cose Poi diventano automatismi Quindi cambi modulo Valorizzi per esempio Kamada Con Sari Non giocava più Kamada ha giocato Nel derby Che ha giocato anche Sì discretamente Con la Juve Penso sia il migliore In campo Nella vittoria Nella vittoria Sì 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 Anche quello Infatti Racconta Abbiamo La tua prima ringa Tutti in the box Che tra l'altro mi piace Perché ti sei già calato Nella parte Hai capito benissimo Di che cosa Di che cosa si tratta E allora direi Che ti lascio Ti lasciamo alla camera Ti lasciamo I tuoi due minuti Che così insomma Ascoltiamo Poi ne discutiamo Perché è bella Allora secondo me Sempre restando in tema Lazio Mario Chila È un giocatore Che può ambire A una squadra Da primo posto Quindi Milan e Inter Sostanzialmente Perché è un giocatore Che mi ha colpito Per come si è trasformato C'è questa sua scivolata Su Un recupero Su 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 Incredibile Di Corsa di 40 metri Scivolata Anche al derby All'ult Uno degli ultimi minuti Per recuperare una palla Rischiando Entra in scivolata In area di rigore E la Lazio riparte Poi vabbè L'azione finisce In modo diverso Però secondo me È un giocatore Che ha avuto una crescita Incredibile Ha ottimi margini Da un punto di vista Tecnico Ottimi margini Da un punto di vista Fisico Ed è molto veloce Difensori veloci Così in Serie A Ce ne sono pochi E ricorda un pochino Tomori Quando è arrivato A gennaio Dal Chelsea Al Milan Secondo me È un giocatore Che può ambire A una squadra Di questa fascia Perché è un giocatore Molto molto interessante Ed è anche forte Da un punto di vista Tecnico È a carisma Il primo anno Con Sarri Quattro partite in Serie A Quest'anno è già 27 Fermo restando comunque Che la difesa della Lazio L'anno scorso Era intoccabile Che è stata la migliore Della Serie A O forse la seconda Migliore difesa Della Serie A Ed era un provvedere Eccezionale Però secondo me È un giocatore Che ha ampi margini Di miglioramento Ed è un colpo Diciamo di tare Che adesso Non è più il DS Della Lazio Che secondo me Potranno rivenderlo A di più Di quanto l'hanno preso Merito di Sarri Però Che ci ha lavorato Così tanto No Soprattutto Merito di Sarri Secondo me Un giocatore adattissimo Però al tipo di calcio Di tutor Che vuole tutor E Sono Super d'accordo Adesso Sembra che stiamo trattando Bene L'ospite Però Io sono davvero d'accordo E ci sono le testimonianze Sul web Perché Ricordo una partita Anzi Di Sarri In cui Ghila Mi ha impressionato Che era Lazio Milan Lui Mi ha impressionato Oltre alle caratteristiche Hai detto benissimo Tu Un giocatore veloce Per questo io penso Che sia adatto Anche all'uomo su uomo A tutto campo Un giocatore dinamico Insomma Anche aggressivo Ma In conduzione Molto forte Cioè col Milan Prende la palla Ma lo fa anche Lo ha fatto anche Contro la Juve Cioè un giocatore Che può diventare Quello che è Adesso Il concetto Di braccetto moderno Cioè quello Che ti crea La superiorità numerica Tant'è che Secondo me Le chiavi Della superiorità numerica Tornando al derby Un secondino Ce l'avevano Lui E Angelino 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 Bello però Angelino Perché Angelino Si scrive Angelino Maledetto Perché nel senso Nella lavagna Mannaggia scusate Loro avevano le chiavi Tant'è che Il calcio d'angolo Decisivo Arriva da una Conduzione Di Angelino Quindi Secondo me Si va verso Quei difensori lì E sono d'accordo Può essere molto utile Per tante squadre Poi gioca a sinistra Poi gioca a sinistra Essendo destro Quindi secondo me Anche a destra Cioè a destra Può fare molto meglio Perché in conduzione Vai meglio Vogliamo aggiungere qualcosa Sul derby Edo Sei un po' taciturno Adesso Tranquillo No io sono ancora traumatizzato Da ieri Sto metabolizzando È rimasta la Coppa Italia C'è ancora tanto La prestazione è stata buona La conference Sto commento Scusate Ghilla nel Milan Ce lo vedo bene Ma nella YouTuber League Vicino a colpo Gobbo e maschera Lo vedo ancora meglio Se vuole venire Io lo alleno Volentieri Sarebbe bello Vederlo In quel contesto Passiamo allora Al prossimo argomento E ci coloriamo Un po' di tinte Rosso-blu Perché ieri C'è stato questo Pomeriggio Caratterizzato Dalla vittoria Pesantissima Del Cagliari Contro l'Atalanta Da una vittoria Pesantuccia Se vogliamo Del Genoa Ai danni del Verona Nel senso che ha veramente Ipotecato definitivamente La questione di salvezza Dimostrandosi comunque Grande rivelazione Di questa stagione Con la Fernati Invece Della rosso-blu Che invece Ti aspetteresti Che è il Bologna No vorrei un attimo Partire da Cagliari Atalanta Nel senso che È una vittoria Veramente importantissima Con Viola che entra Risolve la partita L'Atalanta Che tra l'altro L'abbiamo portato bene L'abbiamo portato bene Infatti Ci siamo poi sentiti Anche con Con il Cagliari Che abbiamo portato bene Nel grande Al grande Nick Però Avete la sensazione Un po' come me Che Cagliari Sia un po' Da rinnovare Da ristrutturare Cioè non vedo Una squadra Con un futuro Veramente roseo Veramente chiaro Brillante Cioè Mi sembra un qualcosa Che Una macchina Che stia andando avanti Che stia arrancando Che stia facendo Un po' fatica Ma che poi Dal prossimo anno Ok Magari dirà Ci siamo salvati Però bisogna Un attimo Anche rinnovare Fare qualcosa A partire magari Dallo stesso allenatore Che per carità Mi metto in ginocchio Di fronte a Ser Claudio Veramente Però probabilmente Ci vuole anche Quelle Vero Ci vuole anche Magari Un input in più Per poi non ritrovarsi Lì a partire Dal prossimo anno Già Adesso ti salverai Probabilmente Perché non è Voglio portare sfiga Però secondo me Come valori Francamente vedo difficile Un annuncio Salvezza del Cagliari Per molestando Che la Sernitana Con tutto il rispetto Ma credo sia Quasi spacciata Per me il Sassuolo Quest'anno Rischia seriamente E poi non vedo Il Cagliari Poi se la giocano Un po' tutte Però sì Perché davanti Per dire La Padula E Pavoletti Over 32 Insomma Parliamo di età E c'è Luvumbo Che sarà per me Il giocatore Che loro cercheranno Magari o di vendere Penso che offerte Non gli manchino E poi la difesa Che forse è il reparto Peggiore del Cagliari Con vari giocatori Vietesca Nel senso Zappa stesso Non sono secondo me I giocatori Che possono Possono fare una serie A A salvarsi ogni anno Sono giocatori Di un livello Un pochino più basso C'è uno Che mi piace molto Che è Oristanio C'è Gaetano Però in prestito Quindi Gaetano Chiaramente anche lui Immagino tornerà Anzi sicuramente Tornerà alla base Però ecco È una squadra Che ha assoluto Bisogno di rinnovarsi Quello sì Ma anche il colpo Ad esempio A gennaio Di Gerry Minà Ah esatto Ti sta a significare Un po' l'obiettivo Del Cagliari Che aveva nella stagione E Ranieri È stato incredibile Nel fare un lavoro Sul carattere Sulla voglia di vincere Sul pensare Solo ed esclusivamente Al risultato E non magari Sul bel gioco A differenza Ad esempio Magari Del Frosinone Che ha iniziato In maniera incredibile Bel gioco E adesso si ritrova Il Frosinone In zona retrocessione Quindi secondo me Ranieri ha dato Dei valori fondamentali Per rimanere in A Sulla squadra È da Rifondare Tutta se vuole Ovviamente stare Stabilmente In Serie A Però Con questi giocatori Per me L'unico lavoro Che poteva fare Ranieri È quello che sta facendo E infatti È il momento Simbolo del Cagliari Quando Ranieri Aveva detto Alla squadra Che se ne sarebbe andato E la squadra Gli ha chiesto Di rimanere Senza Ranieri Il Cagliari Senza Ranieri Il Cagliari Non va da nessuna parte Ranieri ha fatto Un lavoro eccellente A livello proprio Di carattere Per il Cagliari Super d'accordo Tra l'altro Cioè Tutto questo Era sottointeso Ma sottolineamolo Secondo me Il Cagliari Se non ha la rosa peggiore La Serie A Ha la seconda Rosa peggiore Secondo me Prima del Anche prima del mercato Magari Gaetano E Mina Hanno cambiato tanto Sono due titolarissimi Adesso Del Cagliari Ranieri Ma Prima della stagione Insomma Il Cagliari È senza punta Sì Una squadra Che si È difficile Che si salvi Una squadra Senza Senza una punta Titolare Forte Che fa Credo che Pavoletti Abbia fatto tre gol La Padula uno Forse Quindi Sì Poi si è infortunato Parecchio tempo Anche la Padula Però sono Quelli i gol Raccolti Insomma Quindi Serve tanto sacrificio Servono anche delle idee Perché comunque Ieri Nel sacrificio Il Cagliari Il Cagliari Gioca senza punta Gioca con Shomuro Dov Esterno D'attacco a sinistra Gioca con Gaetano Che fa il falso 9 Cioè quindi Comunque È ovvio che non siano Idee Diciamo Di calcio spumeggiante Ma comunque Il Cagliari È una squadra intensa È una squadra Che ti fa Che ti fa correre È una squadra Che comunque Quando ha il pallone Tra i piedi Cerca di andare in avanti E non si può appoggiare Quindi cerca di andare in avanti Con la palla a terra Subito in avanti Verticale Però non è che Palla a pavoletti Davanti E vediamo che succede Quindi Io Veramente Se mai avessero detto Il Cagliari È tredicesimo Adesso ovviamente Con Quattro punti Perché poi è cortissima La classifica È veramente cortissima Però io avrei detto Chapeau Perché Credo che Dall'appunto di vista Di Rosa Fosse La penultima Soprattutto in difesa Difesa È reparto Forse peggiore Anche come portiere Sì Poi ti presenti Capito Con la difesa Praticamente Della Serie B Sì Sì Certo Cavolo Non hanno preso un attaccante Non hanno preso Un difensore Eppure Eppure È un ottimo Cagliari Terranieri Sì Invece del Genoa Che cosa Che cosa mi dite È stata veramente Una bella Una bella sorpresa Quest'anno Poi c'è questo Gudmundson Che continua A spaccare È realmente forte Lo chiedo anche agli amici In chat Che impressione avete Che In quale livello Lo posizionate Gudmundson E secondo voi Qual è la squadra Adatta per questo Per questo giocatore Quindi se Secondo voi È anche già pronto Per lo scattino Adatto che si è parlato Comunque di squadre La Fiorentina Ci ha provato A gennaio Giusto per Gudmundson Si parla anche Di qualche sondaggio In casa Juve Inter Mi sembra di aver sentito Anche Non lo so Chiedo a voi Allora Io Vado Lascio questa bomba Poi mi taccio Sento voi E aggiungo Mi lavo le mani Le mani così Ma Per me No Inter e Juve Farebbero un errore Lui E non lo vedo Né pronto E né Quello che si richiede Tatticamente In quelle due squadre Cioè La Juve Con Chiesa Ha fatto fatica È un giocatore Anche più esplosivo Se vuoi L'Inter Gioca con due punte vere Inzaghi Gioca con due punte vere E secondo me Quello È quello che si deve fare Nel 3-5-2 Cioè La Juve Sta facendo a cazzotti Con questa seconda punta Anche Ci ha provato anche Spalletti Sta facendo a cazzotti Uguale Secondo me Lui dovrebbe Adesso gioca 3-5-2 Ovviamente Cioè Gioca Facendo La seconda punta Ma è il leader tecnico Che vuol dire Che va in giro Per il campo Fa quello che gli va Fa come gli va Esatto Se tu invece Secondo te non lo sarà mai O non lo è Non lo è adesso No Secondo me Sarebbe un errore Cercare di rispondere adesso Cioè All'Inter Alla Juve In questo momento Secondo me Non parti Minimamente Non è 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 neanche Nello status Esatto Non è Di bala Di palermo Secondo me Che tu arrivi E ti conquisti Il posto Dal mio punto Di vista Però è un giocatore Che Roma Lazio Cioè Fasce del genere Ti vai a fare Uno step in più Magari Di un anno Per zittire In primis me E dire Guarda che io All'Inter Giovo titolare Ma Io parlo Proprio per caratteristiche Cioè io non ce la vedo Una grande squadra Con un giocatore Nei due Che ti viene così tanto Incontro Che fa il centrocampista Il trequartista Ti serve una punta vera Alla davanti Guarda io Sono d'accordo Per me Non Inter Non Juve Lazio Roma Sicuramente sì Lazio Se mantiene Tudor E fa quel modulo 2-1 Per me è perfetto Per quel modulo E poi lui Ha la libertà Di fare quello Che gli pare Di prendersi rischi Quindi comunque Di provare giocate Che quest'anno Gli stanno riuscendo Quasi tutte Perché ha fatto anche Dei gol incredibili Gudmundson E' un giocatore Tecnicamente Veramente Molto molto forte Un gradino sotto Ai fortissimi Che ci sono in Serie A I Pulis I Chileau I Lautaro I Chiesa E' un gradino sotto E quindi è un giocatore Che deve stare molto attento Allo step Perché non è giovanissimo 97 Quindi non è un 2002 E' un 97 Che è al primo vero anno In Serie A Perché comunque Il Genova l'ha preso a gennaio Del 2021 Per un milione Ci ha fatto un investimento Incredibile Che Comunque Ma lui da dove veniva? E' redivise Ha fatto Ah sì A Z A Z Sì A Z Quindi lì ha fatto Gli anni comunque Di buon lì Rispetto a quello che Dici anche tu In realtà che mi piace Vabbè l'ha detto anche fra In realtà Cioè magari andare un attimo Anche per step Vi racconto questo aneddoto Di ieri A Palermo Che mi sono ritrovato In autobus Con Amauri di fianco L'ultima fila Un po' come I bulletti I bulletti Della squadra Abbiamo insomma Un po' chiacchierato Lui si è Devo dire anche aperto In maniera molto Molto umana E spontanea Questo è stato Veramente molto bello Ha reso la chiacchierata Davvero molto Molto genuina E trasparente Stavamo parlando In modo ovviamente generico E non di Goodman Stavamo parlando Un po' in modo generico E lui con rabbia Anche un po' A rivendicare Diciamo quella Che è la sua carriera Tutta la gavetta Che ha fatto Lui parlava un po' Con rabbia Del fatto che oggi Un giocatore fa bene Mezza stagione Va via subito E viene subito Però da una big Magari anche Con una mega valutazione E lui mi diceva Fratello Quello è successo a me Mi diceva Fratello No Io ho messo Otto anni Chievo Napoli Otto anni ho fatto Però Adesso io non ricordo L'esplosione Quanto passa Da una grande stagione Cioè O no Non è successa la stessa cosa A Chievo Non so se fece La stagione Al Chievo Al Napoli Non credo Abbia fatto la stagione Era il Chievo D'Europa Però se non ricordo Non credo fosse Però era il Chievo Non vorrei dire No no Neanche al Napoli Con tutto il rispetto Per Amaury Non voglio Togliergli parole Però secondo me Cioè In quella Juve lì Candreva fa bene Al Livorno Viene preso Dalla Juve Zaccani Adesso Viene Zaccani Però la Amaury Del Palermo Non era Come dire Considerato Il fenomeno Che dici Se lo Era anche una Juve Di un altro contesto Sì era Il momento in cui arriva Lui magari ti fa Quella prima stagione bene Poi dopo la seconda Fa fatica Infatti poi dopo Va a Parma Però Oddio lo sai Dipende dalla percezione Io lo sai Che la percezione Che avevo Però era un ragazzino Che la Juventus Avesse preso uno Che lo volano Tutte le squadre Di Serie A Kuluseschi no? No 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 Dico Ah Maury 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 Ma ha fatto benissimo Ha fatto dei gol Straordinari al Palermo E lo prende Però è vero Il discorso Cioè penso Per me Il manifesto di tutto È Mudrik Che è andato al Chelsea Per 100 milioni di euro Una cifra spropositata Una cifra esagerata Ma infatti Al di là poi Della Serie A Che c'è proprio anche In contesto Contesto Ok Dice in generale Sì sì in generale Sicuramente Cioè obiettivamente Se prendi tutti i giocatori Al Chelsea Tesserati al Chelsea In questo momento Probabilmente Hai la risposta Eh esatto Però è il discorso Devo dire che effettivamente Loro Sì sì Hai i sei mesi buoni Ma infatti Volevo aggiungere una cosa Su Gudmundson E Sono d'accordo Con la tua bomba Che Non dovrebbe andare così Però Io Voglio ancora Darmi del tempo Per valutare La dimensione Del Genoa Perché È entrata in modo Importante In Serie A Primo mercato In gennaio Non l'ha fatto Come qualche anno fa Che con Piontech Dopo sei mesi L'ha venduto A proposito di stagioni Esatto Per fare un altro esempio Quest'anno Gudmundson Ha ricevuto E il Genoa Di conseguenza Ha ricevuto Un'offerta Da 30 milioni Supergiù Dalla Fiorentina Ha detto Non mi interessa A me 30 milioni Non me ne faccio niente Io Gudmundson Lo tengo Anche Alberto Gilardino Prima di andare 30 milioni Sono tanti La Fiorentina Appena ha visto 70 milioni Per Blau Giustamente L'ha venduto E quindi io Fossi in Gudmundson Mi darei del tempo Per valutare Tutte le opzioni E non sottovaluterei L'opzione Di rimanere al Genoa Perché è una squadra Che secondo me Punta A rimanere Ad andare Più in alto Di quanto sta adesso Verissimo Poi non può perdere Reteghi e Gudmundson Tutte e due Cioè se li perdi Tutte e due Hai perso Il 70% Del potenziale offensivo Che hai E con cui ti sei salvato Quindi quella è anche Una valutazione Che la società farà Che tra l'altro è poco Cioè il Genoa Produce poco E raccoglie tanto Perché comunque Dei giocatori offensivi Validissimi E Mi sono scordato Ma a ogni live Ti succede Ogni live Ma che ti succede Perché Vorrei entrare nella tua testa Vorrei entrare nella tua testa Dicevo io Di mille cose Perché stiamo qua Parlando di calcio Perché stai a Luna Park Tutte le volte Tutte le live Almeno una volta No ma in realtà Capita anche a me Solo che Parlo di un'altra cosa Per far finta The show must go Faccio magari una sicurancia Però cerco No lui non ce la fa Lui proprio la ammette Eccola Eccola Dicevo Dopo lui sfrutta Il caos Che crea Noi creiamo il caos Per dargli una mano Per dargliela Si dicevo che poi Alla fine Non so se dico Un'eresia Però Il direttore sportivo Di turno Che si prende la responsabilità Di prendere a 30 milioni Goodman Dopo sei mesi Siamo noi Cioè Ognuno di noi Ha il friccicorio Uso una parola romanesca Credo Friccicorio Nello stomaco Friccicorio Che ti illumina L'altra volta parlavamo A me Zirze Dà la sensazione Di essere un giocatore Magari più adatto A una grande squadra Perché non mi interessa Neanche che segni Non mi interessa Quanto quello fa Mi interessa quello che fa Quello che sa fare E magari io Sule Se sono una grande squadra Magari c'ho un altro Esterno Che mi rientra sul mancino Sono gusti Poi magari lo chiedi a un altro E ti dice Guarda Sule per me è il nuovo Messi Sì sì no è vero È vero Cioè credo che sia la stessa Devo dire che Sule è molto divisivo Sì è vero Sì sì Magari Sono uguale Cioè vai da uno E ti dice Guarda io ne trovo un altro Io ho parlato con tanti Che per Sule stravedono Io continuo a vederlo Normale Normale Sì Esattamente normale Qualcosa in più del normale Però insomma Gudmundson vale molto di più Lui secondo me può essere Lui secondo me può essere Il giovinco del Parma Ma se viene la Juve Fa qui il giovinco della Juve Capito quello che intendo Pure per me Invece c'è chi dice Ragazzi Sule Fortissimo Sì no Allora pure per me Secondo me è molto più facile Trovare Ecco se prendiamo Sule Gudmundson Zirze Per caratteristiche Forse Zirze Secondo me è il più unico È il più unico È il più unico È il più unico Gli altri magari Capito Scovando Si possono Si possono trovare Poi c'è da prendersi la responsabilità Fare il direttore sportivo È una cosa Folle Stai con i soldi Di qualcun altro Giocando Giocando È il mestiere Più difficile Più dell'allenatore Perché poi l'allenatore lo sceglie Anche il DS Quindi il DS Spesso sceglie anche l'allenatore È vero Poi la società Alcuni si fissano Per esempio Lodito è uno che sceglie Spesso anche lui Di pancia Però Devo dire Che è un mestiere Tosto Sì Sai quante slide in dorte Nella storia A me una volta Mi raccontarono Che il Chievo Verona Aveva in pugno Milinkovitsavic Non l'ha preso L'ha scartato Cioè Milinkovitsavic L'aveva in pugno L'aveva preso Quando stava nel Voivod Queste sono le cose Che il tifoso Non vorrebbe mai sapere Per prendere Birza Per prendere Birza Grande Storie incredibili Sì Come Holland Che va a visitare Col papà Il centrosportivo Della Juve Però già lì Stai a livello Poi non so Se sia vera o meno La storia del Como Messi Quella secondo me È una cosa Sì 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 Bene Va bene Però Ce ne sono miliardi Di storie Il Genova Ha preso Lewandowski E poi A un certo punto Prezioso Ha detto No Non lo vogliamo più Cioè È pieno di storie Di questo tipo Ma lo stesso Milinkovitsavic All'Artemio Ma proprio All'Artemio Franchi Per firmare Si mette a piangere Dice No Non posso Vuole andare All'Azio Sono cose Che purtroppo Appena il tifoso Sa questa cosa Non se le dimenticherà Mai Mai Ci penso Ogni giorno È il mio imperio romano Milinkovitsavic È il mio imperio romano Ci penso ogni notte Sempre Almeno una volta al giorno Tra l'altro A me manca A me manca In questa serie Ah infatti Sì è stata una scelta Veramente strana Eh però Che però forse Lo classifica In quanto giocatore Sì Più che come giocatore Come scelta umana Come essere umano Non ha senso Non di basso livello Semplicemente Essere umano Di personalità Ma secondo me È anche professionale Perché Sempre una di queste Ce n'è Intanto ragazzi Manca un minuto Se avvi della chat Cominciate a digitare Che così poi Quando la facciamo partire Avete la domanda pronta Altrimenti Qua si allenti a scrivere No scherzo Intanto cominciate a digitare Per poi inviarla L'altra sera Stavamo a parlare Di Bilinkovitspogba Adesso vabbè Stiamo spaziando Proprio Nick Lo metteva Praticamente A pari livello Di Bokbà Sì Ed era un po' contro tutti Secondo me no Per me Bokbà Era contro Superiore Ma palese Ha vinto il campionato Ha vinto il mondiale Ha fatto due finali Una pièce Esatto L'ho visto dominare In ogni contesto Nick Però attenzione Perché Esatto Milliclub ha visto In un solo contesto Con poche pressioni Dove è vero Poi magari Perché dopo lui diceva Sì però ragazzi È più facile giocare Con Pirlo Marchisio dalla fianco Io ho detto sì Però ci devi arrivare A quel livello Esatto E poi Comunque ci devi anche stare In quel contesto lì Ed è più facile giocare Con la maglietta Con tutto il rispetto Dalla Lazio a Dosto Piuttosto che con quella della Juve E lo devi dominare Quel centrompo lì Perché a un certo punto Sembrava che Pirlo Marchisio Vidal Non giocassero più Perché giocava Cioè che giocava solo Comba Che infatti poi Io l'ho detto Anche perché poi La dimostrazione Che alla sua età Ti fa la scelta Di andare in Arabia Che secondo me Che secondo me A poco senso Secondo me Cioè io ero innamorato Di Milinkovic E per me Aveva le carte in regola Sempre per quel discorso Del gusto personale Intuizione personale Ci sono dei giocatori Che ti illuminano Cioè per me Milinkovic-Savic Io non ho mai avuto un dubbio Cioè quando Pur con te ne parlavamo Dicevi Eh sì però Non si è mai voluto muovere Io dico Il giorno che si muove Secondo me Comunque rimane forte Poi in realtà Al mondiale Ha fatto fatica Sì il mondiale E quindi Ci sta a farsi le domande Allora siamo in realtà Già in ritardo Ringrazio Cenzo Per la sub Grazie ragazzi Per il vostro supporto Allora direi Che lanciamo la sigla Di Servi della chat Partono i 5 minuti E rispondiamo Alle vostre domande Allora in attesa Che i ragazzi Si scatenino Ve ne posso fare Una io Che ce l'ho Secondo voi La sconfitta No la sconfitta Il pareggio Il passo falso Del Del Bologna Sono bastardo Faccio un po' L'avvocato del diavolo No Può essere Una sorta di frenata Un po' Un po' fatale Cioè nel senso che Te la vedi Al 93 E 54 secondi Ti vedi la vittoria Lì Con la possibilità Di scavalcare La Juventus E praticamente Consolidare La tua posizione Dentro Le prime quattro E invece Turati Ci mette il guantone E Freuler Credo stava arrivando Per il tapene Si è sempre Andoie Gliela strappa Mentre cade La butta fuori Ci sono di quei passi falsi Che fanno male No? Per me Si Dove giocano? Roma Bologna? No Mi sa Bologna Roma Perché la Roma Ha giocato il derby In casa Quindi magari fa Ok Allora Ancora Do Do chance Secondo me All'Olimpico Diventava complicato Secondo me Si risolve L'ultima giornata Comunque parliamo Però In questo momento L'inerzia è sicuramente Da parte della Roma Secondo me Io tipo Bologna Secondo me Secondo me Bologna In Champions Arriva a quarta No infatti La mia domanda era Passo falso Perché secondo te Potrebbe uscire Dalle cinque italiane In Champions Allora A parte che ci dobbiamo muovere Perché stanno Andando già tante domande Comunque Il mio concetto è Ma dopo magari Ci ritorniamo con più calma Tu passi psicologicamente Dal Guardare in avanti Perché puoi potenzialmente Scavalcare la Juve A doverti guardare indietro Perché Perdi punti contro il Frosinone Non scavalchi la Juve E dietro c'è la Roma Che vince il derby E ti viene a meno tre E quindi psicologicamente Ti può mettere anche Quel pepe in più Ok E quindi Ci potrebbe essere Una sorta di Contraccolto Sono super d'accordo Ne abbiamo viste mille volte Queste cose qui Quindi Per me può avere un impatto Ok Costa Gianna Grazie mille per Per la sub Partiamo Super Mario Balotelli 9 Abram può essere il titolare L'anno prossimo O va comprato un altro Poi trattami Mi sono gasato per lui Ragazzi Rientrare Beh Oddio Secondo me Ne va comprato comunque Un altro Però Abram Ha dimostrato Primo anno 27 gol stagionali Nel scorso Un pochino meno Però per me Ci può stare sicuramente Tra l'altro Se ne stava andando Se non sbaglio Cioè Se non ci fosse stato Quell'infortunio Si parlava di un Abram Che stava per andarsene Se non ricordo male Io ne prenderei uno Al livello Forse è vero Cioè È stato l'infortunio Castellanos immobile Cioè Attuali Cioè che non Non ti dico Questa indecisione totale Perché è straziante Per un allenatore Ma Uno comunque Non prenderei Shomuro Dietro Babra Ma ecco questo Con tutto rispetto Per Shomuro Dopo che Margio Al di fuori di un'ipotetica Vittoria della conference Con che criterio Si può giudicare positiva La stagione della Fiorentina Facendo meglio Dell'anno scorso Secondo me Quindi Vincendo una delle due finali Sì Porti una coppa a Firenze Ti facciamo una statua Per i prossimi due mila anni Però ti ho portato in finale Già su due competizioni Mi dispiace Cioè nel senso Ci devi arrivare Ci devi arrivare Italiano Sicuramente Magari ha qualche difetto Nel campionato Ma è un allenatore Che non molla mai Non Non si tiene mai La prestazione L'undici titolare Perché c'ha la gara dopo Lui pensa a vincere ogni giornata E delle volte perde Dei punti in campionato A me sinceramente Se mi porto in finale Un'altra volta In finale di conference In finale Di Coppa Italia Io ti dico Posso pure arrivare decimo Mi gioco le finali Assolutamente Va come va Tra l'altro Occhio al campionato Perché il calendario Adesso diventa un po' più Tranquillo Dopo i vari Roma Secondo me È un'ulteriore Ottima Buona stagione Magari ottima no Un'ulteriore Buona stagione Di italiano L'ennesima Secondo me Fai l'esempio Con il Brydon Che adesso è decimo In Premier È uscito dalla Coppa È uscito dall'Europa League Adesso rimane Certo Invece Comunque la Fiorentina Decima Va bene Ma comunque Ti giochi due competizioni Andre Galli Secondo voi Quale dovrebbe essere L'obiettivo della prima stagione Sotto la vera gestione Di Giunti Con Motta Diciamo che Andre Lo dà per scontato Champions Se dovesse Motta Champions E allungare Il dualismo Con l'eventuale Milano-Inter Per il campionato A non arrivare Alla ventesima giornata Se è uscito Alla corsa Scudetto Per me devi prendere Anche un centrocampista Veramente di livello Assoluto Sarebbe ora Cioè quello che manca Alla Juventus Un centrocampista Veramente forte Cioè uno di livello L'assoluto Con cui costruire Poi la squadra Quella è proprio la cosa Che manca più di tutto Sì Sono d'accordo R Rave Con i rientri dei prestiti Con il ritorno di fagioli Quanti effettivi colpi fareste Se poteste fare Il mercato Juve estivo Dipende dal sistema di gioco Dall'allenatore Prenderei Un centrale di difesa 100% Mancino A Calafiori Stanno fischiando le orecchie E un centrocampista Sicuramente Decisamente La domanda di Alessio Direi che ce la teniamo Per dopo Come ha detto lui stesso Cioè ve l'anticipo Per quale assurdo motivo La Juventus scala così tanto Nei secondi tempi Si rinchiude sempre In blocco basso Ma direi che è una bella domanda Anche di campo Da approfondire dopo Cenzo 201 Secondo voi Quali sono gli allenatori Migliori per Milan? Napoli E Fiorentina Dai Bello Vai Allora Io dico Fiorentina Palladino È perfetto per continuare La filosofia di italiano Secondo me Milan Vado prima al Napoli Napoli Secondo me ci sta Vincenzo Italiano Se non arriva Conte Perché ovviamente Se hanno in mano Conte Conte tutta la vita E il Milan Ho un po' di dubbi E lascio andare voi Perché Si parla di Pioli Milan Napoli Fiorentina In ordine dico Conte Allegri E Paladino Milan Napoli Fiorentina Conte Allegri Paladino Ok Conte Milan Allegri Napoli Io l'unica che ho sicuro È il Napoli Italiano Lo vedo Adattissimo Più di Conte In linea teorica Poi Conte Magari è superiore Come allenatore Tu ce l'hai? Per me Per questa proprietà qui Conte Milan Non credo ci vada Perché proprio È un allenatore Che è contro Questa proprietà Anche da come è venuto In Furlani In Gazzetta Ha fatto un'intervista Comunque anche dalle parole Fa capire che il Milan Non è una società Che può permettersi O che vuole permettersi Un allenatore come Conte Quindi secondo me Conte è Napoli Lo vedrei molto bene Paladino Assolutamente Fiorentina Per me il Milan Resta Pioli Se non è Pioli Vedrei bene Motta Ma sembra più destinato Ad altri lidi Però per me Alla fine Pioli Potrebbe strappare Di nuovo Un'ennesica conferma Perché poi Tutti lo danno Ogni volta Per partente Però alla fine Pioli Ha aperto un ciclo Fiducia estrema Della società E quindi potrebbe rimanere Lasciatemi ringraziare VJR Servizi Che ci ha offerto Servi della chat Che ci permette Di stare a contatto Di dedicare questo spazio A tutti gli amici in chat E volevo tornare Un attimo Sul tema rosso-blu Sul colore rosso-blu Un attimo al giorno Perché ho un tema In realtà Che nella partita di ieri Ha fatto una grande partita Vasquez Ancora Che secondo me È un altro giocatore Molto interessante Di questo campionato Ma diciamo Che il tema Che io volevo aprire Con voi È quello Del famoso Braccetto Come dicono Quelli bravi Cioè in realtà In realtà no Credo che quelli Terzi Perché Braccetti C'era un Paracetti con tutti i Braccetti No allora Al corso ti dico Al corso Diciano Braccetti Arriva Mario Beretta Ex allenatore Del Siena Siena Posso dire che ieri Nel torneo con le Legend Mutarelli fa Tu oggi fai il bracetto Di destra Io Ho detto va bene Se me lo dici tu Massimo Mutarelli Con questa intensità Se me lo dici tu Io faccio il tuo Braccetto di destra E non mi sposto da qua Mi tolieri Darmian Hai detto io Qualunque cosa mi chiedi Come curiosità Chi era il più in forma Dei giocatori Che hai visto Che c'erano Ciccio Brienza Brienza ha giocato Anche fino a pochi anni fa All'Ischia Magari anche fisicamente Lo aiuta Devo dire che Allora lui è il classico Che dal riscaldamento A freddo Prende la palla A sinistro In crocio In crocio Angolino Angolino E poi Altro aneddoto Stavamo facendo la partita Diciamo Decisiva finale Stavamo vincendo Era 11 No era tipo calciotto Diciamo Un campo un pochino ridotto Squadra è a 8 Tipo no 8 più portiere Ah ok Esattamente 8 più portiere Amelia Avversario Esce Per cercare di fare Portiere Tutti in the box Per stare in tema Noi recuperiamo il pallone Lui dalla nostra area Come riceve il pallone Brienza Scusami Lo tocca Se lo sposta Calcia E va a fare gol Con una facilità Impressionante Devo dire che anche a Mauri L'ho visto un po' Arrugginito La prima partita Ma poi la seconda Ha dato spettacolo Con qualche giocata Veramente Bello Hai fatto un'esperienza Glamorosa Sì sì Tra l'altro racconta anche questa La maschera Mentre marca Mentre marca a Mauri Gli dà senza voler Una testata Praticamente Su la schiena E gli dice Oh cavolo Scusa sono inciampato E lui fa Che dici? Quando? Non se ne è neanche accordo Ormai Se ne è neanche accordo Perché se a Mauri Deve spalle così La bestia Il multiverso La maschera Esatto Marca È gigantesco Salutiamo Salutiamo Anche Colpo Gobbo Grande Grande Detto ciò Tema del Tema del Braccetto terzo Ruolo ricoperto da Vasquez Meraviglioso Perché il tema Che voglio tirare fuori Con voi Con gli amici in chat È questo È secondo me Un ruolo Che col tempo Vedendo quella Che è un po' La direzione del calcio Il trend tattico Se vogliamo Del calcio È un ruolo Che sta assumendo E continuerà Ad assumere Sempre più Importanza Per il tipo Di compiti Che l'allenatore Richiede A quel ruolo Lì C'è il giocatore Che ricopre Quel ruolo Lì Per l'uscita Palla a terra Per la pulizia Per fare un sacco Di cose Al Barbera Abbiamo assistito A Palermo Samp Tra l'altro Una bella partita Ah e c'era Quello di proprietà Della Ju È un nonno Sì esatto Facundo A sinistra Braccetto di sinistra Della Samp E Leoni Braccetto di destra Che tra l'altro Sblocca la partita 2006 ragazzi Leone 2006 Wow E si vede proprio Pirlo che gli chiedeva Di fare questo lavoro Ed erano due Di Vondurre Sì 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 Erano tre e due Diciamo più richiamati Anche Facundo è stato Molto richiamato Da Piero Nella conduzione E devo dire che hanno fatto Un paio di giocate A testa In disimpegno Veramente importanti E ho detto Wow Soprattutto Leoni Di là che è un 2006 Una personalità clamorosa In uno stadio caldissimo Come il Barbera Veramente tanta roba Però secondo me Quello del Braccetto Ci si vince le partite Sì Ormai è fondamentale Ormai è diventato fondamentale Devi saper fare Tutto Devi saper fare Un po' il terzino Un po' il centrocampista Il difensore Marcare Ci diventi anche Ci diventi anche Perché per esempio Gila Ne parlavamo Non è che fa il Braccetto puro In questo momento Perché la lascia ancora a 4 Quando difende Però poi i compiti Mi sembra di capire Nello sviluppo Che siano quelli Sono quelli Perché poi in costruzione Uno poi si mette a 3 Ti puoi mettere diversamente Cioè tu parti 4-2-3-1 Il Milan parte 4-2-3-1 Ma in costruzione Non è mai 4-2-3-1 Spesso fa un 3-2 Con i terzini Che vengono in campo Il centrocampista Che si abbassa E quindi Ciao Tomori Insomma A seconda di chi c'è Finiscono per fare Quel lavoro lì Quindi secondo me È un ruolo Veramente Devi saper far tutto Che poi È per quello che dico Il nuovo Braccetto Diventano sempre di più I centrocampisti centrali Anche sì Cioè che È matematico Che lui si alza E il centrocampista Anche a Lazio Chi è che prende il posto Di Ghila O Marusic Se si alza O Bendu sì Adli Che si abbassa Sulla linea Invitabilmente Tra l'altro L'assist che fa Adli Lo fa quasi da Esatto Cioè è quella posizione lì Che fa un gran passaggio È vero Un passaggio incredibile Sì perché poi sul Milan Contro il Lecce C'è da dire qualcosina Sì sì Infatti è il prossimo punto Il prossimo punto Direi che siamo Pronti su questo Domanda chiara E precisa sul Milan Perché ormai È sempre difficile per me Quando devo preparare la scaletta È sempre difficile per me Andare a parlare del Milan Boh non lo so Quest'anno Sto facendo particolarmente Fatica Quindi domanda Diretta A voi al tavolo Agli amici in chat A casa Che cosa vi piace Che cosa Anzi la cosa che vi piace Di più È la cosa che vi piace Di meno Di questo Milan Allora Di più Sicuramente La duttività Di alcuni tipi di giocatori E situazioni Di Pioli Secondo me Pioli È uno che è molto bravo In questo A cambiare A variare Non solo moduli Ma proprio situazioni E costruzioni di gioco Per esempio Pulisic con il Lecce Ha fatto il trequartista Che è un ruolo Comunque già Al Borussia Dortmund Lui aveva fatto vedere Questo ruolo Quindi già ci giocava Quando era molto più giovane Quindi Pulisic Perché per me Io ho una stima Veramente spropositata Per Pulisic Per me è un campione vero È un giocatore Di livello assoluto Che viene sempre considerato Meno di quello che vale E questo è un parentesi Però Pulisic è un giocatore Per cui stravedo E temo tu non sia l'unico No no Purtroppo però Viene sempre considerato poco Poi ha avuto due anni Molto difficili Ha giocato poco Ha avuto infortuni Però quest'estate L'investimento Che ha fatto il Milan È stato il migliore Uno dei migliori Che potesse fare Negli ultimi anni A livello proprio Di giocatore Per dargli quel tutto E subito Perché Leao Ci ha messo due anni Per diventare Leao Insomma è così Quello che mi piace Di meno Secondo me È una tenuta difensiva Non sempre perfetta Che però è strano Perché comunque Pioli aveva avuto Modo di Di chiudere la difesa Nello scudetto L'ultime partite Senza mai subire gol Però gli infortuni Hanno sicuramente Dato una Contribuita Una mazzata importante Soprattutto in quel reparto Però la tenuta difensiva I giochi difensivi Sono un po' Per me dovrebbe fare Anche un passo ulteriore Calabria Che è un terzio destro Normale Quando ci si chiede Come mai Calabria Non va in nazionale Palesemente Di Lorenzo È più forte di lui Darmiane È più forte di lui Per me È giusto Che non sia nazionale Che fa una partita Però per me Non c'è alcun dubbio Sul perché Calabria Non sia nazionale Con tutto il rispetto Ma non ci vedo Nulla di strano È come quando dicono Smalling Nel nazionale inglese Non viene considerato L'ultima presenza 2017 Southgate Non l'ha mai considerato Quindi per me È giusto che non ci sia Forse l'off-to-cheek Meriterebbe una considerazione In più Anche se difficile Quindi secondo me Forse una tenuta difensiva E credo che debba Fare un passo in più Anche oltre Calabria Ti ricordi la domanda Che ho fatto? Sì Mi la ricordo No Sapevo se dovessi andare io Vado io Ok Allora Sai quanto Abbia diciamo Parlato spesso Del fatto Francesco ha detto Si cambia tanto Nel Milan Tante costruzioni Eccetera Io ho visto Tante cose diverse Nel Milan di Pioli Poche che poi Nella partita In cui ha cambiato Hanno effettivamente funzionato Ma Con il Lecce Invece Devo fare Chapeau A Pioli Perché Io l'ho letta così Era tanto Che il Milan Non costruiva Almeno nell'ultimo Nell'ultimissimo periodo Soprattutto Dopo la seconda metà Diciamo Nella seconda metà Dalla seconda metà Del giro in andata Il Milan costruiva quattro Non portava più i terzini Dentro il campo Non faceva più tre Più due Ma faceva quattro Più uno Con Adli Ieri invece abbiamo rivisto Calabria dentro il campo Con Adli E secondo me C'è una lettura Molto facile Ma molto Molto importante E molto Efficace Cioè giocava Chukueze Con Pulisic Trequartista Puoi permettertelo così Che succede Che se tu mi porti dentro Infatti Banda Stringeva tanto Se guardate il primo tempo Del Milan Il Lecce Ci mette una trentina di minuti A non subire Gli uno contro uno Di Chukueze Di Chukueze Con Gallo Esatto Ero allo stadio di servizio Benissimo E non so se hai avuto Quest'impressione Ma è stato proprio palese Che Calabria Abbia fatto Fondamentalmente Quel movimento E tra l'altro Pioli Dicevano in telecronaca Si arrabbiava con Adli Quando Diciamo Si metteva nella stessa posizione Di Calabria Addirittura Poteva andare a fare il breccetto Come dicevamo Come spesso succede E quindi Succedeva che Chukueze Era spessissimo In uno contro uno Con Gallo E Chukueze Era in una di quelle giornate In cui Gli succedeva qualunque cosa Con il pallone tra i piedi E Questa è un po' La cosa che mi piace di Pioli E la cosa che non mi piace Nel senso che Io riconosco in Pioli Un allenatore che studia Un allenatore interessante Un allenatore con idee Sottovalutato Ne abbiamo parlato Sottovalutato per te Sì Per me è sottovalutato Ne abbiamo parlato spesso E io sono il primo Invece come Io non mi accorgessi Poi dentro il campo Di queste idee Nel momento in cui Gli servivano Nel momento in cui Lui ha fatto il 4-2-4 Quando ha provato Tantissime soluzioni Le due punte Musa esterno Musa esterno Sia partita in corso Che quando la prepara Nel cambio Io vedo l'idea Ma poi mi manca Ne abbiamo parlato anche Con la Lazio Lazio-Milan Non so se ti ricordi Fra con Benna Ser Che andava a fare Praticamente Il trequartista Dall'altra parte Cioè io poi Nella partita Non la vedo Il vantaggio Di quella cosa Lì Vedo Che poi Tu la sblocchi Con il pallaleao E vediamo Che vuol dire Che tu Sicuramente Sei uno Da stimare Perché studi C'hai idee E si vede E quindi È molto più facile Che tu ne possa uscire Ma è come Con la Fiorentina L'idea comunque Di stringere molto Calabria Per liberare Ciucuese Mettono nelle condizioni Di performare Al meglio La largo Pioli secondo me Ragiona molto Anche sull'avversario E cerca sempre Di spostare le pedine In funzione Dell'avversario Che è una cosa Intelligente Assolutamente Forse poi Probabilmente Per quello che dice Anche fra Gli manca Lo studio Sul controattacco Dell'avversario Perché spesso L'avversario capisce Invece dove Può far male Al Miela Ci mette un pochettino Io da calciatore Tra virgolette Di elettantistico Mi gasa di più Quando l'allenatore Dice Sono gli altri Che si devono adattare A noi Cioè concettualmente Ma anche perché Mi fa un po' meno Casino in testa Se vogliamo Comunque Poi è chiaro ragazzi A seconda dell'avversario Tu ti vai a mettere In un certo modo Cerchi poi Dopo di attaccare Di mettere in luce I loro punti deboli E cercare di attaccare Quelli No Ovviamente Però c'è chi davvero Esaspera questo concetto E quasi va a stravolgere A stravolgere Da una parte All'altra C'è uno che rimane Fisso E dice Noi facciamo questo Indipendentemente da chi c'è E c'è chi invece dice Oggi Non abbiamo mai fatto La difesa 3 Perché si calcola la difesa 3 Che è una cosa Che fa Inzaghi Inzaghi è più Il suo modulo La sua valutazione Si gioca così Pioli invece Si adatta molto Sì anche perché Si stanno scannando In chat Il tema Pioli Il primo tempo È stato il risultato Bugiardissimo Se finisce 2 a 2 Su questo Non c'è dubbio Parliamo della costruzione Ma il Lecce Traversa Secondo me il tiro Sempre di Gonzales Da fuori Sicuramente Non diciamo Infatti il Milan Comunque I suoi 1,50 Di expected goal Against Infatti La tenuta difensiva È il grande Fissi proprio Però In costruzione Ho visto un Milan Con un'idea coerente Che ha funzionato benissimo Quello sì Però certo È una squadra Che subisce Veramente Veramente Tanto E quindi Dopo un po' Tu lo paghi sempre Con il Lecce Poi c'è anche La situazione Dell'espulsione Di Kerstovic Quindi rimani in 10 Togli il riferimento La punta Piccoli Insomma Non ha avuto Il miglior in campo Se mi è stato Anquist Che ha provato A fare qualcosa Stupidissima Secondo voi È inevitabile Quella espulsione Per me è un rosso generoso Io l'ho considerato così Lui non lo vede proprio Il giocatore La gamba è altissima Quindi lui ha punito Chiaramente la gamba L'intervento È molto brutto da vedere No infatti Cioè capisco Che sia rosso tutta la vita Però mi è dispiaciuto Mi metto nei suoi panni Lui non ha idea Non ha idea Non ha la minima idea Di dove sia Però certo La gamba è alta Non si può dire Però È brutto brutto da vedere Ah sì Se lo prendi in faccia Lo Sì no Se lo prendi in faccia Sì sì Hai l'occhio Esatto Peccato Parlando di arbitri Poi invece Per lo scivolone Che c'è stato A parte invertite Cioè Non rigore Di Anc Mister Ah sì È nato Vabbè Comunque Non ci voglio onestamente No no Non parliamo Non parlarne Onestamente Su Pulisic Tu volevi dire Qualcosina Sì Una mini al ring Ha già detto Ha già detto Francesco Però la partita Contro il Lecce Ci racconta Un Pulisic Che fa bene Anche Da trequartista L'ha fatto in carriera Ho sentito Delle opinioni discordanti Dicendo che forse Quello è il suo Vero ruolo Io vedo un giocatore Che comunque Quando sta bene E se sta bene Mentalmente Prima che fisicamente Perché è un giocatore Che si sente leader È un giocatore Che si vede Che è felice Di stare in campo Quindi La sensazione Che ho io È che Non dipenda tanto Dalla posizione Pulisic È un giocatore Estremamente Sopra media Rispetto ai giocatori Che siamo stati abituati A vedere in Serie A In questo periodo È un giocatore Che tatticamente Non ha senso Di esistere Cioè È un giocatore Che ti permette Di fare tantissime cose Intelligente Intelligente Si applica I movimenti Sono sempre giusti E io invito A guardare Pulisic Quando non ha il pallone Fa dei movimenti A favore Dei suoi compagni Di un'intelligenza Sicuramente Ripeto Superiore Alla media Ed è un giocatore Che Secondo me È strettamente Collegata Alla sua fase Psicologica Alla sua fase Fisica Cioè In questo momento Pulisic Non ha intenzione Di smettere Di giocare a pallone Sì sì Non è che sta tanto Il gol Quello che fa Col controllo Non mi ricordo Contro chi Quest'anno Dici Il gol Che fanno il lancio E lui controlla La palla In corsa E ti salta E sì Quello è un gol Rossinone Possibile Potrebbe essere Rossinone Potrebbe essere Rossinone Per me ci sono pochi giocatori Che possono essere Chiamati campioni In questa serie A Pulisic Che è sicuramente Uno dei primi Due tre Perché per me È un campione vero Ma anche ieri Hai visto la facilità Con cui Col piede debole Se la sposta Giocatore reale Serenissimo Serenissimo La vera forza di Pulisic Quest'anno Tra le altre Si vede A Monza Quando il Milan Ah certo Si presenta Con una squadra Diciamo non titolare E nella ripresa Entrano Vari giocatori Tra cui Pulisic E il Milan È in dieci A un certo punto Pulisic Sta per vincere La partita Da solo Fa gol e astris Per vincere La partita da solo Con una determinazione Hai ragione Che si vede negli occhi Che come dicevo Non lascia spazio Adesso Fate gli scongiuri Adesso Guarda che succede Molto con Pulisic No perché Perché veramente Lui È un anno Senza Non facciamoci Non facciamoci un post Perché siamo veramente No noi siamo Il bacio della morte Con i nostri post Su Instagram Abbiamo messo Berardi Lo può salvare Solo lui Può salvare Il Sassuolo Il giorno dopo Rottura del Trello La Fiorentina Arriva Da una super Partita in Coppa Italia Contro Atalanta E forse Anche un po' Nell'approccio Alla partita Paga questa cosa qua Cioè ho visto Una Juve Che veramente Nel primo tempo Ha sovrastato I Viola Con un Chesni Spettatore Chesni Tutt'altro Che spettatore Nel secondo tempo Con un paio Di interventi Soprattutto uno Su Nico Incredibile Incredibile E Non lo so Cioè com'è Com'è la situa Allora Io penso Che Parlando anche Di Juve Perché è giusto Parlare anche Degli avversari Di chi ci ha battuto Raramente ho visto Una squadra Che tatticamente Ha messo Così tanto In difficoltà La Fiorentina Che è una squadra Che magari poi Non segna Lo sappiamo Con tutti i limiti Molte squadre Preparano la partita Con la Fiorentina Dandogli la palla Perché sanno Che abbiamo Molti problemi In attacco Però preparata In questo modo Dove per 40 minuti La Fiorentina Non riusciva A passare Praticamente La metà campo Marcatura uomo Su ogni giocatore Mancava solo Marcatura uomo Su Terracciano Per me La Juve L'ha preparata In modo Perfetto Poi Con i cambi Italiano È riuscito A riprenderla A rimettere La partita Un po' Sui binari Giusti E Allegri Invece Sapendo anche Di avere una forza Importante Una forza Difensiva Come sempre Si è chiuso Le statistiche A me non A differenza Dell'andata Che per me Per 90 minuti Abbiamo avuto Il possesso Del gioco Le statistiche Di ieri Non mi lasciano niente Sono falsate Chi ha visto La partita Sa che la Juve Poteva trovarsi Benissimo 3-0 Dopo 20 minuti E siamo stati Fortunati A tenerla In vita E a giocarcela Fino all'ultimo Ma Ed è Una critica Che faccio alla Juve Perché Ed è la stessa critica Che avevo fatto Alla Roma Di Mourinho Che anche lì I primi 30 minuti Sono stati Veramente Da spegnere La tv Per i tifosi Della Fiorentina Ma com'è possibile Che Vedi la potenzialità In quel caso Della Roma Che adesso Si sta vedendo La potenzialità Della Roma Vedi che La Juventus Ha queste possibilità Ha la possibilità Di non far capire Niente a una squadra Che tiene tanto Il pallone Che si diverte A tenere il possesso Di gioco E poi Dal nulla Gli dà Completamente Le chiavi In mano Della partita E poi La decidono I fenomeni La decide Shesny La decide Un fenomeno Al contrario Ovvero Onzolà Che toglie il pallone A Beltran Sulla riga No ma No Quella è sfortuna È sfortuna È sfortuna E quindi Mi dico Perché hai queste potenzialità Sai far giocare La tua squadra In quel modo Sai dominare Una partita Però poi Decidi di dare Completamente La possibilità All'altro Di ribaltarla Questa volta È stato fortunato Ma nelle altre partite Che la Juve Appunto Non vinceva Da un mese O più Ti capita Che magari L'altra squadra Riesce a fare gol Che Shesny Non riesce a fare Il miracolo Che la traversa E poi Il pallone Sbatte in porta Quindi Mi viene rabbia Come mi è venuta rabbia Con la Roma Che vede una potenzialità Di gioco Importante Che può chiudere Qualsiasi squadra Nella loro area di rigore Che a un certo punto Non viene più sfruttata E secondo me Anche i giocatori Poi Ne risentono Di giocare Un calcio Incredibile Per 40 minuti E poi il secondo tempo Ti viene detto Non giocare più Fai un altro tipo di gioco Chiudiamoci dietro Penso che la faccia Di Cambiaso Quando Fue la famosa Della sostituzione di chiesa Digamo veramente tanto Del momento della Juve E anche di Allegri Che comunque Quando lui dice La famosa discussione Con i danni Porta rispetto Perché ho vinto Sei scudetti Oggettivamente Ha vinto sei scudetti E quindi È un allenatore Su cui ci sarà sempre Un occhio di riguardo In più Però è anche oggettivo Che questa Juventus Qui È veramente Una Forse Per me È la peggiore Di tutte Da quando la Juventus È iniziata a giocare All'Union Stadium Per me Cioè Negli ultimi Dieci anni Se prendi quell'epoca Per me Questo è l'anno Senza ombro di dubbio Comunque La Juve di Pirlo Ha portato a casa Due trofei Con tante difficoltà Sarri ha vinto lo scudetto Secondo me l'anno scorso Peggio forse Peggio anche di quest'anno Non lo so Adesso stiamo facendo Stiamo facendo le pulci Però Per me Fai veramente fatica E io Giocatore Di livello Di un certo tipo L'ultima squadra In cui andrei a giocare La Juventus In questo preciso momento Qual è la cosa più triste Cioè se prima era una gara Adesso per me Per essere valorizzato Al meglio Non andrei alla Juventus Soprattutto se c'è Questo tipo di Allegri Che ha vinto sei scudetti Di cui quello con il Mina Secondo me Il primo Forse è quello Che è uno a cui È più legato Da un punto di vista Proprio di risultato Perché veniva dal Cagliari Quindi non era Allegri Era Massimiliano Allegri L'allenatore del Cagliari Che ha espresso un discreto gioco Ha vinto lo scudetto Però per me Ecco È una piazza Veramente difficile Dove andare adesso Ed è clamoroso Pensare questo È vero È vero Te lo pensavo anche di Vlaovic Cioè quando Vlaovic È andato alla Juventus Ho detto Io è l'ultima squadra Dove andrei Io vabbè Sono tifoso Mi sembro di parte Ma io obiettivamente Guardando il gioco Di quella Juventus Guardando il gioco Di quella Fiorentina Che c'era quasi anche Una lotta Champions La Fiorentina Stava stava facendo bene Proprio parlando di carriera Del giocatore Io non la capirò mai La scelta A livello di valorizzazione Di andare in quel momento In quella Juventus Cioè Avevo fatto un video Con la battuta Bene La Juve ha preso la ciliegina Sulla torta Manca la torta Manca tutto il resto Non vinci con le ciliegine Ecco Sicuro Proprio sicuro Sono super d'accordo Ti vedo caldo Vuoi aggiungere tu qualcosa No sono accalato Dall'ambiente Mi vedi caldo E hai ragione No anch'io c'ho caldo Devo dire Detto questo Io sono Molto d'accordo Cerco di dare invece Una risposta Diciamo Al perché Le domande di Edo Ci proviamo Sul perché Il perché Secondo me È abbastanza facile La Juventus Quest'anno Ha provato Più volte A fare qualcosa di diverso Si è visto Anche nell'ultimo partire Nell'ultime dieci giornate La Juve ha fatto qualcosa di diverso Con il Napoli Con l'Atalanta E con la E con la Fiorentina In questi 30 minuti Barra primo tempo La Juve non è abituata Cioè la Juve Se tu torni sempre indietro E rifai tutte le stesse cose Rifai sempre le stesse cose Durante la settimana C'è bisogno di allenamento Cioè tutti lo dicono Grandi campioni Ti alleni E poi vedi i frutti Nel campo Se tu invece Lo fai una volta Mezz'ora Poi ritorni a fare Quello che devi fare Fai due partite Con un atteggiamento Forte e propositivo Tipo Napoli-Atalanta E poi ritorni Indietro Vuol dire che Prima di tutto Non ci credi Prima di tutto Se non ci credi È molto difficile Far trasferire Questo tuo crederci Alla squadra Che non ci crede Neanche loro Perché non si allenano Per quello E quindi la Juve Ottimo concetto Tatticamente La Juve Per 30 minuti È una masterclass Tattica Quella della Juve Ieri Perché la Juve Cambia modulo In fase difensiva Cambia modulo In fase offensiva La Juve Stava a 4-4-2 Interessantissimo Con Cambiaso A destra Non faceva Kostic Il terzino Come spesso succede Ma lo faceva Danilo Il terzino E quindi Gatti E Bremer Centrali Linea 2 Locatelli Rabiot Io Da amante della tattica Io mi gaso Quando vedo queste cose qua Dico cavolo Con l'uscita di McKennie Perché tu dici Ma perché McKennie Sta uscendo su un terzino La prima cosa che mi sono chiesto Dico perché McKennie esce forte Subbiraki E poi ho capito McKennie faceva all'esterno Faceva all'esterno A destra E allora dico Cavolo Interessante questa cosa Ha funzionato benissimo Tra l'altro la Juve Fa anche una cosa intelligente La Juve non fa Quello che non sa fare Cioè recuperare il pallone Perché se non sei Torniamo al discorso Se tu non sei abituato A fare pressing alto Non è che tu Ti basta andare uomo su uomo La palla non la prendi Se non ti alleni Se non ti alleni Certo Devi stare La Juve però Consapevole Fa rilanciare La Juve non era intenzionata A riprendere il pallone Infatti non lo riprende Ma semplicemente Costringe a buttare Il pallone alla Fiorentina Però per me La risposta sta nel Se tu non alleni Questi concetti Se tu non ci credi In questi concetti Poi ritorni indietro E infatti la Juve Cambia proprio modulo La Juve Ritorna 5-3-2 In fase di pensiva Probabilmente Uno perché magari Non sei abituato E fisicamente Non stai bene per farlo Due perché Magari ti sei spaventato Perché Allegri crede E ha anche ragione Nel concetto Che nelle partite Ci sono Dei momenti Favorevoli a te E dei momenti Lui ha capito Ha detto Ormai il gol Non l'abbiamo fatto Merintano È un po' semplicissimo Soprattutto per l'inizio Come dici Sei un amante della tattica Per l'inizio Cioè il Il dislivello Che c'è stato È un qualcosa Di troppo importante Da non Lui voleva quello No lo so Nella sua idea principale Perché se no Non la prepari così Era Facciamo 2 a 0 All'inizio E poi La gestisco È quello Se tu Alleni i tuoi giocatori A pensarla così Allora la faccia Che fa cambiaso È di quel senso lì È di Ma cavolo Li stavamo dominando Poi ti ripeto Secondo me Ti devi anche allenare Perché poi il giocatore Lo vuole fare Ma se tu non ti alleni Durante la settimana A farlo Non duri Tutta la partita A fare quella roba lì Secondo me Hai centrato anche il punto Che era poi una domanda Che volevo fare E a cui già hai risposto Relativa al fatto Che c'è un problema Forse anche di fiducia Che viene trasmessa Ai giocatori Perché io La sensazione In tanti momenti Della partita Anche nel secondo tempo È che la Juve È anche più difficile È anche più difficile È nuoto sincronizzato Però faresti sempre Schifo a farlo Allora perché Nel primo tempo Lo fai con così tanta convinzione Con Danilo Che tante volte Tante volte rompe la linea Addirittura Segue Buonaventura Quasi fino all'area Quasi come se la Juve Fosse andata uomo a uomo E nel secondo tempo Invece vedi Ildiz Che timidamente Va in pressing Con healing Che non sa se stare o andare E soprattutto Con una linea difensiva Che è già molto indietro Però tu cambi pure modulo Secondo me Secondo me In questo caso qua Non è un tema di automatismo Cioè in questo caso qua Hai un allenatore Che quando lui Lo sta provando in allenamento Non ti sta trasmettendo La convinzione totale Del fatto che voglia fare Quella cosa lì Ok E allora tu Per facilità Fai un passo indietro E poi tu stai in avanti Perché inevitabilmente Fare il passo indietro Toglie rischi Toglie rischi Capito come Secondo me Allegri In quel momento lì Chiede una cosa diversa Io non voglio dire Giusto sbagliare La Juve La Juve in questa stagione Ha provato a fare pressing In tanti diversi sistemi di gioco Sì Cioè sia con la linea 4 dietro Sia con la linea 5 Cioè Però questa volta Stava funzionando Perché tu cambi Perché evidentemente Vuoi cambiare Cioè capito Questa volta qui La Juve 4-4-2 Con McKennie esterno Una follia Fighissimo Veramente figo Funzionava Se tu mi cambia E fai 5-3-2 E per me non lo fa Il 45 Se me lo fa anche Un pizzichino prima Mi cambia Mi cambia tutto Mi cambia il segnale La squadra Mi cambia quello che devo fare Mi cambia la posizione I McKennie Chi esce Chi esce su Biraghi Adesso ci esce Cambiaso Che fa il quinto O ci esce È il messaggio È il messaggio Arriva Forte e chiaro Quello secondo me Poi magari noi Non stiamo là Poi è strano Comunque lui è uno D'estrema esperienza Che manda un messaggio così È un po' Per me è anche un problema Di singoli La Juventus Cioè ci sono giocatori Che non sono da Juventus Su questo non c'è Miretti Per me è un giocatore Normalissimo Non è un livello Juventus Costi ci ha fatto Un'annata straordinaria E poi A livello poi di As Neanche tutta Cambiaso per me È un giocatore normale Cioè non sono giocatore Faccio fatica Per me Chiesa Per dire È l'esterno destro Più forte che c'è In Italia E che dovrebbe fare Il titolare In ogni squadra Come ha la destra Però sottolineo E poi ti venga ad abbracciare Finita la live Destro Destro Esatto E poi ti venga ad abbracciare L'europeo di Chiesa Sono anni che lo dici L'europeo di Chiesa È irreale Cioè è bellissimo L'europeo Con cui abbiamo vinto Le partite con cui abbiamo vinto L'europeo di Chiesa Per me Chiesa è un'ala destra È l'ultima Scusate se entro un po' Nel tecnico Nel filosofico Ma è una questione Di sfera tecnica Che tu vai ad aprire Quando giochi a sinistra A destra Cioè Quando tu giochi a sinistra Devi rientrare Tu lì stai parlando Stai aprendo la sfera Della tecnica Combinata Diciamo All'agilità Certo Quando tu sul tuo piede forte Invece parti dall'altra parte Non devi rientrare Tu L'uomo Non lo dribbli Lo sfidi in velocità E lui in questo È un fenomenale È ancora fenomenale Invece Quando tu devi rientrare Sul tuo piede Lui Non ha quella Non ha quella Non dico brillantezza Non ha quella tecnica Quella capacità Cavolo Chiesa Non è un giocatore Che ti fa la rifinitura Che ti fa l'ultimo passaggio Chiesa è un giocatore Smagnoso Un giocatore di grinta Di strappo Lui ha bisogno Di quello Ieri Ha fatto un paio di volte Contro Cagliode Di cui poi ne parliamo Perché ha fatto Una prestazione Meravigliosa Ha fatto quella diagonale Su Ildis Appena entrato Devastante Ripeto C'è stato un paio di volte Uno contro uno La prima se l'allunga E poi frana Contro Buonaventura Credo che avesse fatto Il raddoppio E l'altra Credo si sia Incespicato Comunque ha perso È proprio Una sfera di competenza Diversa Chiesa a sinistra È normale Chiesa a destra Per me è ancora Uno dei più forti Che ci sia No ma senza dubbio Quello è il suo Spettacolare La soddisferenza È proprio un'ala Chiesa Cioè un'ala Diverso È diverso È diverso È diverso Sì poi Pure quello che dice Scogna Poi non sappiamo mai I giocatori Perché Ci stanno dei giocatori Che si fissano Io Mi sento Ah certo Per esempio Parlavo a Coverciano Mi diciano che Arthur Nella Juve Non voleva assolutamente Fare il vertice basso Ah ecco Cioè Che è strano Comunque poi Lui si rifiutava Non è che si rifiutava Però non gli piaceva E quando a un giocatore Non gli piace Vuol dire che non performi bene Certo Cioè Un conto è che uno è entusiasta Un conto te ne accorgi pure No è come quando Io ti dico che faccio una cosa Se non mi va di farla Faccio male Sì sì Certo E quindi Cioè ognuno Cioè ognuno ha le sue Perché Scogna diceva Magari a lui Cioè si sente meglio Beh sa chi faceva fare A signori Là alla sinistra Al mondiale Il 94 Il capocaroniere Della serie A Nel senso Tutto il rispetto Ci sono anche situazioni In cui gli allenatori Magari chiedono Sì sì Ognuno ha le fisse sue Certo Adesso poi vedremo anche Che fine farà Allegri con la Juventus Perché poi adesso Ci sono anche un po' Queste voci No Di ieri sera Di questo Screzio Tra Juve Non tra Juve Tra appunto Allegri Società Da capire Che le parti Anche perché poi Si è esposto Su questo Fabrizio Romano Per cui Se il buon Fabrizio Si è esposto Allora direi che La direzione sia quella Ma credo che Non ci siano particolari dubbi Mi sorprende Che magari Allegri forse Pensava davvero Che con Coppa Italia Gli ha qualificazioni in Champions Alla fine La società che avrebbe concesso L'ultimo anno L'anno di contratto Se reagisce così È perché Secondo me Lui aveva un po' Questa Questa aspettativa Però Anche qua Capiremo Che cosa succede Abbiamo dato Fermi tutti Cioè il periodo Secondo me È importante Abbiamo parlato Anche di Pioli Allegri Al di là Della situazione Tecnica E comunque Non è che cambi Cioè La Juventus Stava provando Qualcosa Di Sicuramente Diverso Rispetto allo scorso anno Per questo Io ti ho detto Secondo me Lo scorso anno Ancora più arido Tatticamente Il campionato della Juve Quest'anno la Juve Che ne so Prova ogni tanto A sviluppare 4-3-3 Qualche cosa Insomma Qualche tentativo L'ho visto Non clamoroso Quindi se vuoi cambiare Se vuoi andare Sulla linea Del Giochiamo Eccetera Di certo Non continui con Allegri Ma Secondo me Determinante Questo Blackout Che non ti puoi permettere È allucinante Che tu per due anni consecutivi Per due mesi Alla Juventus Non vinci una partita Perché mentalmente Verso le redi È una cosa Inammissibile Che non lascia Cioè Non è che Dà possibilità Di dialogo Tra persone Io vengo da te E tu mi dici Sì ma io Ho delle idee Ho capito Ma se tu Per due mesi Non mi dai mai La sensazione Di poter vincere Una partita In campionato Qualcosa che Non è opinabile A quel livello No Non è opinabile E in più Ci aggiungi Che il momento È arrivato alla fine Della stagione Perché se tu parti così Allegri fa Il girone d'andata Dalla nona Che per le nove partite Adesso non ha vinto Sì Vabbè magari L'avrebbero esonerato Se fossero le prime nove Ma comunque Fai tutto quanto Magari ti giochi Anche le tue chance Perché dici Come Pioli Pioli in questo momento Sembrava spacciato Certo Invece adesso A dicembre sembrava Che nessuno potesse dire Pioli rimane Sì sì Adesso vince tutte le partite Che gli dici E quindi cambiano Le percezioni Però è certo Che se tu comunque Vuoi costruire qualcosa Di diverso Anche se Allegri Avesse vinto Tutte le partite Prendevi la decisione E dici Io mi aspetto Una gestione diversa Non voglio Un calcio del genere Non voglio una filosofia del genere Cambio A prescindere dai risultati Si parla Si riparla Di Allegri Questa situazione Vedremo Nel senso che È stato proprio Un corso naturale Cioè l'hai detto tu Ti toglie Ti toglie la possibilità Di parola quasi Anche perché Se davvero Se per tre anni consecutivi Si ripresenta Sempre lo stesso copione È un problema È un problema È veramente un problema Grazie Ed è nota comunque Una mancanza Di Di un lavoro Che è stato fatto Ma che non ha reso Come Tutti si aspettavano Probabilmente Quindi io credo che Insomma Il cambiamento Sia abbastanza inevitabile Nella speranza Questo dico Ovviamente anche Da tifoso Nella speranza Che Cioè Il giocatore Poi ricomincia Anche un po' A prendersi le sue responsabilità Perché Perché la figura Di Allegri È diventata Veramente Il parafulmine Per eccellenza E secondo me Il giocatore Della Juve Non si sente Una critica vera Perché Allegri Il gioco Non so C'è lo stesso Vlaovic C'era sempre Vlaovic Male Ma Allegri Ma non è messo Nel contesto E secondo me È anche ora Che il giocatore Della Juve Torni Invece A mettersi in discussione Abbiamo risposto Prima Almeno io ho risposto Prima personalmente Su questa cosa qui Non so che ne pensi E non so che ne pensate Cioè per me La Juve Non è che non può vincere Lo scudetto Il prossimo anno Ma sarebbe Un ottimo risultato Se dovesse accadere Cioè per me La Juve Comunque In questo momento Se mi chiedi Dove me l'aspetto Il prossimo anno Con il mercato Che non me l'aspetto Faraonico Con la rosa attuale Ti dico Champions E ripeto Per me lo step Lo devi fare Nel giocartelo Lo scudetto Perché Un conto è che Tu arrivi secondo Un conto è che Arrivi secondo Cioè Il secondo posto Del Milan quest'anno Perché Pioli È in Perché loro Fanno la corsa Su se stessi Perché non si è mai stato Noi siamo migliorati Rispetto all'anno scorso Abbiamo performato meglio Il mercato migliore La scuola è migliore E quindi loro Dicono Noi Ci siamo migliorati Cioè il Milan Dell'anno scorso È migliore E il Milan di quest'anno È migliore Di quello dell'anno scorso Quindi loro dicono Questo è Poi è certo Ci sono 15 punti Insomma Adesso A memoria non so Ci sono 12 punti Non sei mai entrato Mai entrato Neanche una volta E per me è quello Lo step Che puoi e devi fare Se sei un'inseguitrice In realtà anche L'anno scorso Cioè Le stesse squadre Che hanno inseguito il Napoli Quest'anno hanno inseguito Ma infatti Anche a proposito Di questo Io quest'anno Ho risentito Anche da tifosi O da addetti ai lavori Dire Adesso la Juve Conta solamente A fare risultato No No infatti È da tre anni Che si dice questa cosa qua Invece Invece no Cioè Tu questo ultimo mese e mezzo Lo devi fare Perché devi mettere dentro qualcosa Già per il prossimo anno Cioè basta dire Adesso la Juve Ma anche il prossimo anno No ma appunto Perché altrimenti Si riparte sempre da zero E allora davvero Ha ragione chi dice Che in questi trani Non si è costruito assolutamente nulla Perché se si arriva Sempre all'ultimo mese e mezzo Dove Sento dire da tutti Adesso la Juve Deve pensare solamente A fare risultato Dico no Cioè Giocatore Staff E dirigenza Invece di dire Ragazzi Cioè Questo momento qua Va vissuto con la mentalità giusta Perché poi è tutta salute Che ci ritroviamo Il prossimo anno La Juventus non finisce Nel 23-24 Cioè ci sarà anche il prossimo anno Per cui Bisogna che qualcuno Torni a ragionare un po' In termini di continuità Anche il prossimo anno Secondo me Devi dare continuità Di una decisione Cioè Se prendi la decisione Di Di Prendere Tiago Motta Proprio per questo Tu non è che devi dire Tiago Motta arriva per vincere No Tiago Motta arriva Per costruire qualcosa 3-4 anni Per poi vincere Esatto Cioè Per poi è chiaro 3-4 anni Poi puoi vincere Anche il primo Poi vincere E semplicemente Quello vuole Però E semplicemente È cambiato il tempo L'era storica Non è più la Juventus Che Non è più il calcio italiano Di una volta Che perché qua c'è il loghetto Della Juventus Allora vinci in automatico Cioè Prima tu prendi Ronaldo Per vincere la Champions Hai delle risorse Di disposizione Esatto Hai anche una squadra In cui ti permetti di mettere la cilicina Quando diceva la torta Per me non è solo Allegri Cioè Blauic arriva in una squadra Che c'ha tante Cioè non gli serviva un centro avanti Alla Juve Basta Cioè La Juve no Cioè gliene mancano più di uno Su tutti Proprio il centrocampista La roba Cioè quella è la cosa Che manca più di tutto Da due anni Tre anni Poi la Juve non c'ha Difensori moderni No esatto Sì Non c'ha Cioè Bremert Poi piedi buoni Beh non è da uno Non c'ha piedi Cioè tecnicamente Non è normale Cioè vicino Perché Bremert Gatti zero Ti impedisce di Di costruire È uno che Corre Corre e mena Però Ogni tanto segna anche Il bei gol Cioè bei gol No perché si spinge Si spinge però È molto Cioè secondo me In questo calcio qua Ti serve un giocatore Tipo Calafiori Per me sarebbe Un giocatore importante Un grande upgrade È il momento buono Della Torringa Secondo me Eh infatti Volevo Credo che sia Poi magari Credo sia il momento Non so come l'hai scritta però Che io ti ho lasciato Il concetto Non me lo ricordo più Adesso la leggiamo insieme Vediamo Oggi il calcio Sceglierebbe Scegli Oggi il calcio Scegli italiano Non allegri Bello Mamma mia Quanto casi O no Assolutamente Assolutamente E Inizio subito E Provo magari anche A mettermi Nella mentalità Juventina Che ci hanno Giustamente Raccontato Insegnato Gli altri tifosi Io Fossi Juventino Con l'esempio Di Tiago Motta Che non ha una squadra Da quarto posto Ma è quarto Con Xavier Alonso Che Non è la squadra Più forte Più forte in Germania Ma con le sue idee Riesce a stare lì E sta per vincere La prossima giornata Potrebbe vincere il titolo Mi viene da dire Che scegliere Allegri Vuol dire Scegliere un tipo Di calcio Che non esiste più È come scegliere Mourinho Mourinho Ti portava a un qualcosa Che al calcio D'oggi Non serve più Ti porta carattere Mentalità Che adesso Invece Va più Va di più L'idea di gioco Io vedendo gli esempi Di Xavier Alonso E Tiago Motta Non capisco Non concepisco Come si possa andare Verso un allenatore Che dice No Io ho detto Di andare ad attaccare Per segnare Io per questo Fossi il Napoli Perché si parla Parliamo delle notizie Di mercato Tra italiano Che sicuramente Ha qualche difetto E Allegri Per aprire un ciclo Perché non penso Che il Napoli L'anno prossimo Voglia vincere lo scudetto O ha bisogno comunque Di vincere subito Un trofeo Se vuoi aprire un ciclo Lungo Duraturo Con delle idee Di valorizzazione Dei giocatori Messe nelle condizioni Di far bene Io scelgo Vincenzo Italiano Tutta la vita Se ho l'occasione Nel caso della Juve Scelgo Tiago Motta Ma vado su Tutt'altro Tipo di allenatore E l'esempio Più recente Che abbiamo Per me È De Rossi Mourinho Si voleva Far chiamare Il mago Harry Potter Perché stava Nono con la Roma Arriva De Rossi E quei giocatori Inadatti Senza valore Che non sapevano Fare niente Ricominciano Stranamente A giocare a calcio Quindi per me Ormai l'allenatore È sempre più fondamentale È vero La Juventus Non ha la squadra Pi' forte del campionato E se perde lo scudetto Che ormai ha perso Non è uno scandalo Ma per me Nel calcio d'oggi Se ti giri intorno Non puoi più Accontentarti Di Allegri E bello Magari ricordare La storia Ma è come dire Alexandro è forte Cioè a me Allegri Se devo confrontare A un giocatore È Alexandro Gli devi portare rispetto Perché è stato Un grande giocatore Ma adesso Non lo puoi più Mettere in campo Sono stato drastico Non sono stato tiepido No no Sei andato dritto Per la tua strada Ere Sono ere Modernità Insomma È chiaro che è così Dopo un po' Uno perde la sua Perdi il tocco Cioè il calcio Capito Si evolve A un certo punto Secondo me È giusto Che puoi pure Comunicativamente Secondo me Beh lui Comunicativamente Ha costruito Cioè tu puoi Riuscire a Cioè a far Meno notare Queste differenze Se tu comunicativamente Parlando Fai uno step Da paraculo Se vuoi Inzaghi ha fatto Un grande step Comunicativo Negli ultimi anni E mezzo Per dire Cioè lui Ha avuto proprio Una Cioè prima Era diventato Quasi una macchietta Per alcune cose Che diceva Adesso devo dire Che comunque È difficile trovare Una dichiarazione Di un certo tipo Sbagliata O comunque A parte quella Secondo me Dopo l'uscita Con l'atletico Che forse Era un po' Nel momento Però poi Comunicativamente Ha fatto un salto enorme Senza agenzie Senza cose Perché poi molti C'hanno agenzie Invece lui No A casa Si vede Gli hanno detto No Vorrebbero fare Vorrebbero aprirgli Profili E cose così Però lui Non è per la quale E Cajoda Invece per chiudere Sul tema Fiorentina Che tipo di giocatore è Perché Comunque Quest'anno Quando è mancato Si è sentito A parte che Parisi a destra Poverino adattato Ha fatto Un po' di danni Si è sicuramente Bruciato tante opportunità A Parisi Che non sta più Trovando spazio È un giocatore Che per me Ha in mano Il futuro Della Fiorentina Se Cagliode Dovesse rimanere Anche se Secondo me Subito Fare lo step successivo La Fiorentina Nel futuro Potrebbe avere appunto Due esterni Molto Molto Interessanti Cagliode Ieri fa una partita Dove Prendevamo Incursioni Di ogni parte Ed ha fatto Una partita importante È arrivato Ildiz Che a me fa impazzire Sono d'accordo Con Scesni Che nei prossimi anni Sarà tranquillamente Candidato Al pallonetto Tranquillamente Non lo so Però potrebbe essere Tra i papabili E Cagliode Ha fatto Due incursioni Ildiz E Cagliode L'ha fermato Come un giocatore D'esperienza Ed è un ragazzo Del 2004 Quindi per me Anche parlando Temi europei Sulle fasce Si è messi Molto Molto bene Cioè Tra Di Marco Cambiaso Cagliode Di Lorenzo Cioè Io fossi Spalletti Non dormire la notte Dei ruoli In cui ci stanno 77 giorni Allo stesso livello Numero 9 Probabilmente Sarà Ritechi Che comunque Per carità Magari ci fa vincere Di nuovo l'europeo Però Non lo so Eh Con tutto il rispetto Adesso ci ho pensato Guarda che sta tornando Scamacca Sì Occhio che sta tornando Scamacca Che non è che Cambi Diciamo Inzaghi Ritegui Però Io Scamacca L'ho visto bene A Cagliari L'ho visto bene Nell'ultima partita Adesso non mi ricordo Contro chi L'ho visto bene Contro il Napoli E Diciamo che è tornato Un giocatore convocabile No no è vero È tornato un giocatore convocabile Ok da convocabile Da convocabile A numero 9 No ragazzi Convocabile Cioè tu confronta Con tutte le nazionali No 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 Con tutte le nazionali Con i nostri 9 Convocabile Non ti dico No no Certo Però con tutte le altre nazionali E veramente Mi rendo conto Che è un confronto Veramente impietoso Enrique Lewandowski Ciò Félix Ronaldo stesso Che comunque Ancora ci sarà Gonzalo Ramos Certo Gioca titolare Titolare Francamente La Francia La Francia Neanche Le cito Perché ha tre squadre È davvero dal 2006 Post Tonic E quel ruolo lì Non riusciamo a coprirlo No Che poi È clamoroso Tolto l'expload di Balotelli E l'Europa di Prandelli Ma Che però poi Comunque quella cosa Quel giochino che dicevamo Comunque Gigi Riva Che rimane È ancora il buon miglior Marcatore della nazionale Vuol dire Comunque anche prima Anche prima I nostri migliori giocatori Non è che facessero Le scintille Sì nessuno ha mai Fatto gol A parte Vieri È una cosa strana È una cosa strana È anche lo stesso Inzaghi Ha segnato 25 gol In nazionale Però comunque Eppure le nostre soddisfazioni Quella nazionale Non nella storia recente Purtroppo però Nonostante non ci fosse Magari l'attaccante Perché poi dalle altre parti C'era È importante Quello è il confronto Cioè dalle altre parti Tanta ricchezza Trovi Henry Kane Che è segnato a Valanga Lewandowski Che è segnato a Valanga Ci metti chiaramente Ronaldo Ma se non vuoi mettere Ronaldo Ci metti Joe Veli Ci metti Gonzalo Ramos Giocatori di questo tipo La Germania C'è sempre Non so C'ha avuto Müller La Francia Giroud Giroud Che ha vinto un mondiale Senza segnare un gol Però comunque Avercene Colomani Cioè capito noi Colomani Comunque è buono Gioca No no è vero Per me la grande cosa È stata l'incapacità Di valorizzare il mobile Per come era stato valorizzato Gli esterni Ragazzi Cioè noi parliamo Che sugli esterni Un bel match Un big match O comunque fosse Un buona partita Non mi ricordo Ma ricordo Che entrò subito bene Quindi è un giocatore Forte Sicuramente Anche di testa Andiamo all'ultimo punto Di giornata Combattendo il caldo Dello studio Dovremmo necessariamente Sistemare il condizionatore Perché continua a uscire Aria calda Per cui dovremmo Ah ok Ci sta uccidendo Quindi No 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 Nel senso C'è questo caldo Perché il condizionatore È spento Perché se lo accendi Nonostante lo metti A zero gradi Esce caldo Quindi il forno Sarebbe ulteriormente Enfatizzato Ultimissimo punto Veramente rapido E anche abbastanza leggero Ma concedetemelo Vedendo il weekend Da cui arrivo Ed è il tema serie B Dato che Tanto qualcuno Ce l'ha anche un po' Chiesto nei commenti Ha spinto No no tranquilli Tranquilli Molto serenamente Mi gioco subito La mia ringa Perché tanto ripeto Non è che ci sia Tanto da discutere E nel farlo Cercherò comunque Di non essere Di non essere falso Ippocrita Considerando che Negli ultimi tre anni Probabilmente avrò visto Cinque partite Di serie B E forse neanche intere Però Dico Aprite il vostro cuore Alla serie B Perché ho avuto La fortuna E qua Devo ringraziare Palermo Il Palermo Per aver invitato Tutti in the box A raccontare Questo evento Veramente storico Per loro Con l'apertura Del nuovo CFI Questo nuovo centro sportivo Tra l'altro Bellissimo Ragazzi a Torretti In un contesto Lì veramente Ci vai All'allenamento Con il sorriso Perché è clamoroso Quindi complimenti a loro Ho avuto La fortuna Il piacere Di vivere Il Renzo Barbera E soprattutto La mattina Di stare Per le vie Di Palermo A parlare Comunque Con tifosi Credetemi Di ogni età E tra l'altro Qua usciranno Anche dei contenuti Sulle nostre pagine Che non vi spoilerò Perché sono uscite cose Veramente da 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 commozioni Cioè Proprio da emozionarsi Io ho dovuto Trattenere la lacrima In più momenti Della giornata Quello che voglio dirvi Sono stato fin troppo lungo È Sceglietevi una partita Di Serie B La più vicina che avete La squadra La più vicina che avete Andate allo stadio Veramente da tifosi Da non tifosi Da appassionati Esterni di calcio Perché io Ho vissuto Al Barbera E non so se la media Sia così Ma Al Barbera Ho vissuto Uno stadio E un clima Che non vivevo Da tanto tempo E tra me e me Ho detto Ma io In questi ultimi anni Quando è che sono andato Allo stadio Cioè Soprattutto facendo riferimento All'Alien All'Alien Stadium Cioè Quando è che sono andato Allo stadio Persone In festa Sia sull'1-0 Per il Palermo Sia sull'1-1 Sia sul 2-1 Per Anzi sul 2 pari Della Samp Comunque gente che esulta Gente che canta Gente che sogna È un clima Veramente Fantastico Quindi se questa è la Serie B Dico Cerchiamo di dare Anche più spazio Perché c'è veramente Una genuinità Una passione autentica Verso proprio la propria squadra E anche quello che è lo sport E questo sport Quello del calcio Che è veramente impressionante E tante volte ormai Davvero magari il tifoso Va allo stadio Con la pretesa Di dover vedere sempre Dei partite spettacolari Di tornare sempre a casa Col bottino pieno Quando invece Forse il ruolo del tifoso È proprio quello Di andare allo stadio Godersi la partita Ed essere tifoso A tutti gli effetti Quindi far festa E sognare con la propria Con la propria squadra Per 90 minuti Davvero un'esperienza bellissima Scegliete la partita Più vicina che avete E regalatevi Un sabato pomeriggio Così perché Vi garantisco Che vi riaccende Qualcosa dentro C'è proprio una genuinità Pazzesca e clamorosa Ci tenevo quindi A condividere Qui al tavolo Con tutti voi Un po' l'esperienza Che ho vissuto Bellissimo Grazie Mi hai ricordato Ce l'ho salvata Tra le foto preferite Perché per me Il concetto di tifo Uno striscione del Rai Rai Non so Rai Bellissimo In poche parole Qui si viene a Tifare Supportare Il raglio Non a vederlo vincere Per me Il concetto di tifo Io poi sono stato Alla bombonera Non ho visto Dopo ho scoperto Che hanno vinto 4 a 0 Con un'espulsione Che stavano in dieci Ma lì è proprio L'essenza del calcio Capisci da cosa È mosso il calcio E perché va avanti Il supporto Dare supporto È qualcosa che Ti ruba l'anima Veramente È tipo il Ti amo anche se vinci Cioè la frase famosa Di Bielsa Che vede su un muro A Sveglia Lui dice L'accettazione proprio Cioè ti amo In cambio di niente Bellissimo Bellissimo È un concetto anche raro Da trovare Vabbè Sì Che poi Tu hai fatto un esempio Di una tifoseria Quella Juventina Sicuramente particolare In un periodo storico Particolare Ma in generale particolare Perché comunque Tutte le grandi squadre Fanno fatica Lottano Per avere un tifo Serio Tra virgolette Perché Sei vittima Certo Anche di ospiti Di Come tu Sei stato al Barbera E eravate in tre All'Allianz Stadium Invece magari Per andare a vedere A Juve O a Real Madrid Eccetera Ce ne stanno Tanti altri Che sono turisti Diciamo Però C'è da dire anche La Juve ha ritrovato La curva In questi ultimi tempi Quindi Guarda Al di là del fatto Che si senta al coro O meno Quando sei a casa È proprio un tema Di clima Cioè Di supporto Sì sì ma proprio È coinvolgente Ti trascina Ti fa vivere L'esperienza Dello stadio Io tanti anni Tante volte Negli ultimi anni Ho proprio detto Ma Ma anche il predici Quando da Ma sì ma dici Non cambia quasi più Ormai andare allo stadio Cioè capito Perché tanto ormai Ognuno va lì Un po' con Con la sua aspettativa Con la sua pretesa Se non viene rispettata Si incavola O urla Invece lì Ho proprio visto La festa Del Palermo Che gioca Bravo Cioè il Palermo gioca Oggi è un giorno di festa Punto Bellissimo Perché oggi gioca il Palermo È un giorno di festa Finito Poi ne parleremo Perdiamo Ne parleremo Ci scanniamo Ci incavoleremo Diremo contro allenatore Però la base è Oggi gioca il Palermo Un giorno di festa Punto Io questa Mi è arrivata dritta Sono stato completamente investito Da questa roba qua E niente Ci tenevo a condividerla Vogliamo chiudere In maniera molto leggera Con il Gabbione Combattendo contro il caldo Io sono in sede Io sto No Io sono in sede Io non rinuncerei al Gabbione Neanche se mi dessero Allora abbiamo le domande pronte Per cui io direi che Siamo due contro due Abbiamo Fra e Edo Contro Facciamo un paio di dispari Per chi comincia Vuoi giocare tutto Per me di rivedere un attimo Per chi comincia Ti amo Le giù Perdo sempre Però si vince Quello che conta Siga del Gabbione Eccoci Hanno fatto delle tecniche Per non farmi capire niente Via Ah si Tolgo la chat Vai Quindi comincio Allora Prima domanda Il record di gol di Pavoletti In serie A Quattro opzioni 14 18 16 15 Madonna Questa è difficile Questa è una delle più difficili Abbiamo anche collaborato Non possiamo sbagliarla Allora Io ho una sensazione Ma vado a sensazioni 18 No No La mia sensazione O è 14 O è 16 E ti faccio scegliere Quali sono le opzioni 14 14 16 15 18 Giusto Sì Per me ho 14 16 Infatti non devi mai incrociare lo squadro No infatti mai Oppure illutili Come facevano Io non vi guardo Sono l'assunzione Hai detto Ho 14 Ho 14 Ho 14 Ho 14 Ho 16 Secondo me 18 Non vi guardo 16 Risposta definitiva Sì Giusto Ma che c'hai Ma che c'hai Ma che c'hai Se abbiamo preso questa Non possiamo Questa Questa sì In quale di queste squadre Non ha giocato Antonio Sanabria Betis Sassuolo Sporting Gion Olimpia Assunzione Allora Per giocato Si intende Minuti Sì Cioè quindi Hai sordi Ha fatto almeno una presenza Esatto In quale di queste squadre Non ha giocato Betis Sassuolo Sporting Gion Olimpia Assunzione Allora Gion e Betis Ci ha giocato Allora il discorso è Se col Sassuolo Ha fatto presenze Perché lui viene girato in prestito Non so se ha fatto presenze Non riesco a ricordarmelo Con la maglia nero verde No però Non ha fatto Cioè Il discorso Nella mia testa Non riesce a Battorire Lui viene prestato Al Sassuolo Però non so se fa presenze Sinceramente Io ti dico Sassuolo Non so se però Magari è un trabocchetto E prenderlo proprio Tempo Olimpia Assunzione Per me ha giocato Dai Sassuolo Olimpia Era un tranente Cioè Non lo ricordavo neanche io Eh no C'ha prestato Sassuolo era tanta roba Perché la Roma Lo prende e lo presta Ah è vero E quindi Quindi questa cosa qua Mi ha tratto in inganno Vabbè Lascia che ridano Noi scappiamo Noi ce ne andiamo Allora Quale di queste squadre Ha vinto più scudetti Negli anni 80 Ah Decennio Sì Ok Inter Napoli Roma Milan Allora Qua serve ragionamento Con calma Allora La Roma ha vinto Uno scudetto Negli anni 80 Il Napoli Ha vinto Uno scudetto Forse due Ragioniamoci Mi sentirei Più propenso Verso una delle due milanesi Sacchi Sacchi Arriva nel 90 Allora No Allora Lui vince già nell'89 Sicuramente Perché vince la Champions Quindi Allora 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 L'Inter degli anni 80 Ti dico Non c'ho un ricordo L'Inter degli anni 80 Cioè L'Inter degli anni 80 L'unico giocatore Che mi viene da dire È Bergomi Tipo Sì Cioè L'unico giocatore Che posso associare Perché poi Però è vero Gli altri tipo Mataus Questi qua Sono anni 90 No Però Milan Di Sacchi Dai Oh no Mataus Sottina cavolata Tempo dai Tempo Tempo Eh Ma non è che Va a finire Napoli Che ne ha 22 Con Maradona Eh Però non credo Dai O Inter o Milan Io dico Milan Di Sacchi Dici Milan Perché il Milan Prima di Berlusconi Era In niente Se non ricordo male Per quel periodo lì Se mi guardi così Dico Inter Se mi guardi spaventato Dai Andiamo Inter Ufficiale Sì Siete sicuri Presa Questa Questa è stata Che poi L'Inter Se c'è una cosa Voglio guardare in camera Se mi sentivo il punto perso Non me lo ricordo Se vi dovesse capitare Di giocare al gabbione Con Matteo Non gli date mai L'Inter dei record Dell'89 E vince Io sciolgo i nodi Sì è vero Prendete la decisione Pure giusta E possono Vai Io volevo dire una cosa Per il contenuto Sono stato corretto Perché Matteo ha lasciato qua il telefono Con le risposte Ho intravisto Che aveva lasciato E la mia correttezza Per il contenuto Perché stanotte voglio dormire Ho detto Non guarderò Possiamo dire Possiamo dire Però la rinatazione è stata tantissima Possiamo dire Che se ha zecchato la prossima È perché hai guardato Ok Se ha zecchato la prossima È tutto falsato È tutto falsato È tutto falsato Belle domande Devo dire Abbiamo cambiato Quale fu il numero Di maglia Di Cristiano Lupatelli Al Chievo Dieci Non lo sanno tutti Sì sì Da questa Questa sì L'ho letto pure prima L'ho letto prima No Questa è famosa No 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 Sì sì Scusate Scusate Questa è talmente atipica Che è diventata famosa Questa è tipo Gatti 44 Sì Ok ok Questa sì Vai Allora Da calciatore Quale trofeo ha vinto più frequentemente Simon Inzaghi Serie A Coppa UEFA Coppa Italia Supercoppa Italiana Da giocatore Sì Allora Coppa UEFA No Quale Coppa UEFA Ma che dici Allora sicuramente O è Supercoppa Italiana O è Coppa Italia Però ragazzi in Coppa UEFA Sai che secondo me Sai che secondo me È Supercoppa Italiana Supercoppa Italiana Sicuro? Sì Godo Coppa Italia Coppa Italia Meno male Vince 2004 2001 E penso anche 8-9 Non giocando Quindi secondo me Che poi in effetti No 8-9 La gioca delle partite Come fai a vincere Supercoppa Che Coppa Italia Cioè dipende Fa un assist contro l'Atalanta È stata una cagata Effettivamente Beh però dipende Perché magari non vinci Non vinci la finale Però E però come ci arrivi Qua in Supercoppa Deve aver vinto il campionato È capito No è vero È stato senza senso Alla fine Per Parco Era giusta Coppa UEFA Alla fine Saremmo giocata meglio Possiamo fare il 2-2 Con poco ragionamento Oltre al celebre 87 Quale altro numero di mai Ha utilizzato Antonio Candereba Nelle squadre di club 10 11 5 17 Mamma mia Però È scritta bene 10 5 10 11 5 17 E al Cesena Potrebbe aver avuto Un numero strano 10 Il Cesena Di Mutu E Candereba Oltre al celebre Questa qua è Tu ce lo vedi Andiamo per esclusione Allora Su me potrebbe essere 5 o 10 Ci sta Anch'io Questo 5 Mi suona strano Devo essere onesto No al Parma Candereba 10 L'11 Dici proprio niente No Non ti saprei dire Perché Esterno Lui prima della Lazio Non ha mai fatto l'esterno Tic tac tempo Quindi faceva il Ok Il centro Non so 10 Mi sembra 5 Proviamo 5 5 100% Bravi ragazzi Bravi In quali di questi campionati Non ha mai giocato Pavard Bundesliga Ligue 2 Ligue 2 Ligue 2 Bundesliga 2 Ligue 1 Ah io pensavo Io pensavo volessi di Ligue 1 Eh O Ligue 1 O Bundes 2 Per me Sai che è Ligue 1 Però Non lo so Perché dico Talmente forte Magari È partito È partito Da Ligue 1 Io mi ricordo Solo Stoccarda Quindi tu diresti Hai detto Ligue 1 Però sarebbe Un po' eccentrica Molto eccentrica Tempo Tempo Successo Dai Dai vabbè Diciamo Ligue 1 Ti piace Ligue 1 È Ligue 2 Ah quella che Non ha giocato in Ligue 2 In Ligue 1 sì C'era Tranne Ligue 1 Infatti lui Al certo punto ha detto Secondo me è Ligue 1 Ligue 2 Ma di nuovo Infatti io Sono molto Preoccupato Perché quando lo escludono Poi ci rivanno Con qual L'attuale Calciatore Di Serie A Con qual L'attuale Calciatore Di Serie A Ha condiviso La sua esperienza Al Chelsea Mohamed Salah Christian Pulisic Juan Quadrado Pedro Bella questa Sì Penso sia Quadrado Quadrado Sì Anche se Ne avevo subito Proprio cattivi Senza ragionamento Ma fai pensare Pulisic No sicuramente Arriva al Chelsea 19-20 Quindi no Io mi sento sicuro Perché sono tutte e due Pedro Salah Per me è quadrado È Pedro No no Perché se ne va quadrado Lo diamo noi Al Chelsea Sì non mi ricordo Precisamente l'anno Però era quello Perché gli anni di Montella Sono quelli lì E abbiamo preso Un giocatore Che poi ha fatto Benino Un certo Momento Salah Quadrado Sì quadrado Secondo me Sicuri? Sì dai Corretto Ragazzi tre a due Oggi si perde Oggi si perde Non si perde Non si perde Allora Chi ha giocato più partite In Champions Con una sola squadra Modric Terry Maldini Scholes No vabbè Ma sono difficilissimi Cioè possono essere tutti Questo è difficile Chi ha giocato più partite In Champions C'è gente che ha giocato Mille partite C'è capito Sì Allora Ripetiamo Per favore Grazie Modric Terry Maldini Scholes Modric O devo dire che anche Scholes Però No no Per me invece Perché Là è longevità Pure Maldini Questa la prendiamo Perché siamo rientrati Nel flow giusto Di processo Io ti metto i dubbi Ti risciolgo Perché aspetti Dico perché Scholes Secondo me no Perché comunque Fa Vabbè no Gioca a miliardi 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 Porca C'è sta Modric Che effettivamente Con una sola squadra Hai detto? Sì sì Ah quindi ok Ah ok Quindi Modric Comunque è solo Perché Modric Potesse Tottenham Esatto Però quanti Fa 2014 2013 Dieci anni Maldini Fa la prima Champions Nell'89 Tipo fa la prima Champions Nell'94 C'è una parte C'è una parte Il terzo Ce n'è un quarto Che non stiamo calcolando Terry No Terry Non lo calcoliamo Ha fatto due finali Sì Sarà Terry sicuro No dai Ha fatto due finali Sarà Terry sicuro Una finale Non l'ha giocata Ok A maggior ragione Sarà Terry No dai C'è una cosa dentro di me Che dice Schools E lo sai che può essere Più di Maldini Però Maldini fa più finali Ma nell'era Ferguson Maldini fa più finali Però dei Scoles Cioè Maldini Il Milan Fa più finali Del Man United Tempo Tempo Sì Maldini No no per me è Modric Non lo so Perché Modric Dovrebbe stare là Eh Se no c'è la Sergio Ramos No Dai O no Ti trovi Se no c'è la Sergio Ramos Questo è bello Se no c'è la Sergio Ramos Fidate di me Fidate di me Questo è bello Maldini Ma come Scoles Scoles Te devi fidare Te devi fidare A un certo punto Ti senti Scoles Io mi sentivo Modric E hai detto Maldini Alla fine tu hai detto Ci sarebbe Ramos E quindi Ho detto No Modric Eh no Io era per avvalorare No Modric Secondo me Sì forse Cioè ho detto Non c'è Ramos Perché Se no avrebbero messo Ramos Con questi Capito Era per avvalorare Modric Qui secondo me La classifica è Scoles Maldini sicuro Cioè Maldini Può proprio vedere Quante ne ha giocate In meno Forca miseria Scoles Ci avete ragione Oggi disastroso Possiamo fare il 4-2 Da 2-0 a 4-2 Mi ricorda Mi ricorda Fiorentina Ju Chi ha ricevuto più Ammunizioni Nell'attuale Serie A Luca Ranieri Teo Hernandez Iber Ramadani Marten Deron Eh questo è tosso Allora Teo ne ha ricevute Veramente tante Però forse Ramadani Perché sono tutte Probabili Bravo Allora Io magari sbaglio Ma È un giocatore Si fa munire spesso Ma Non le ha giocate Tutte Ranieri Spesso e volentieri All'inizio campionato Ho giocato solo quarta Quindi io Ranieri lo tolgo Ramadani Teo Giusto Deron E il fatto che sia Se non sbaglio L'unico centrocampista Tu guardami Secondo me O è Teo O è Teo O è Deron Non guardare Francamente Oggi si perde Teo ne ha ricevute Veramente tante Però secondo me no Con Pietrella si perde Dai Deron Vogliamo dire Deron L'unico centrocampista Dici che è un indizio Andiamo di Deron Dici di no No Ramadani pure c'è Ah giusto Due e due Forse No per Ramadani Francamente Non lo so Però so che Deron E Teo ne hanno prese tante Tempo Come ti senti Tempo al tempo Deron Per fortuna Era Teo Ramadani Ah Questa Questa qua Non ci avevo mai pensato Siamo ancora vivi Siamo ancora vivi Questa non ci avrei mai pensato Adesso Concentrazione qua Fondamentale Che dico Scolza Questa sembra facile L'ultima questa La vedo bene Questa sembra Siamo dopo dell'ora No no Questa è la nostra Questa è la penultima nostra Sembra facile Quale tra queste tre squadre No scusa Quale tra queste quattro squadre Ha disputato più competizioni europee Quali tra queste quattro squadre Atalanta Odinese Bologna Sampdoria Ma c'è più competizioni Europee Quindi Coppa UEFA Che vuol dire Una volta No più Di più Ah più di una stagione Sì 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 No come numero Chi ne ha partecipato più volte A una qualsiasi competizione europea Io ho fatto conference Coppa UEFA No 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 Questo voglio capire Il numero di partecipazioni Per credo Quante volte andate in Europa Una squadra Il numero di partecipazioni totale Tra tutte le competizioni Ok Atalanta Odinese Atalanta Odinese Bologna Samp Atalanta Odinese Bologna Mancini Mancini Ha fatto anche finale di Champions Io non c'ero Mi perdonete se dico Cavolate Io non ero nato Per me Quella Samp lì Dura di meno Dell'Atalanta Per dirti Cioè l'Atalanta Sono tipo 6-7 stagioni Che fa In Europa Però Io perché collego la Samp Come la dea Della Coppa UEFA Perché ha fatto finale di Champions Però della Coppa UEFA Comunque L'Atalanta fa Almeno due partecipazioni Alla Champions Almeno due partecipazioni Alla Europa League L'Udinese la escludiamo? No no Non la escludiamo Perché l'Udinese Però l'Udinese Per me Nel periodo Ah no Però l'Udinese C'ha pure Intertoto Ha vinto l'Intertoto Porco mondo Senti che ti dico Senti che ti dico Porco Giude È vero Bologna Bologna Cioè non c'ho po' ricordi Il Bologna Di Beppe Signori Era Magari una volta Però Non c'ho ricordi Mondo Gatto Per me è Atalanta O Atalanta Udinese Che stiamo escludendo Bologna E Samp Per me è Samp Io rimango convinto Però aspetta Non la sparà Dimmi solo chi pensi Io per Che poi si gira Tra Bologna Tra Atalanta E Udinese Io Samp Tu dici Samp Sì Allora io ne ho trovato una E diciamo quella Che rimane Tra l'Atalanta Udinese Ma perché Samp Giustifica È quel periodo lì Per me Lì hanno fatto Veramente Io Sì sì Lì hanno fatto Davvero tanti anni Poi Poi la Samp La Samp Non c'è tornata anche Con Del Neri In Europa Ha fatto degli anni In Europa Nel calcio recente Tempo Tempo Vai Se te la senti Tanto io non ce l'ho Non so decidere Tra le due Orca miseria No Se non te la senti Che hai detto te O Atalanta Udinese Ma Non so Udinese ti direi di no O l'Atalanta Del calcio moderno O la Samp Senti Samp Sei più sicuro di me Vai Samp Oggi È giusto Oggi è un fine Eh sì Eh sì Eh sì Ok Eh 3 a 3 Eh questa è un momento fondamentale Eh sì Vediamo che cos'è Questa è la nostra penulta Con quante? Possiamo sapere con quante? No non lo sai Quante partecipazioni? Eh sì Non lo savo tante Ed erano in quel periodo Erano in quel periodo lì Di Viali Mancini 15 sono tanti Tantissimo L'ultima 2011 Quando Sesso Vabbè quindi pure pre Perché Mancini e Viali Quanto stanno qua Samp Beh 5-6 anni Quindi Vuol dire pure prima La Samp Quale di questi numeri Ha utilizzato In carriera Ma è Ah ok no Quale di questi numeri Ha utilizzato in carriera Di club Daniele De Rossi 10 5 6 7 Gli ha utilizzati In squadre di club Quale di quei Quale di questo Quale tra questi Solo uno La risposta Quale tra quei È quello col Boga Bravo Qual è? 10 5 6 7 Eh col Boga Che numero C'aveva De Rossi Era fuori col Boga Che bastardo Belle però Domande Bravo 10 non era sicuro Nel Boga Francamente Se l'hanno dato A De Rossi No no Nel numero di Riquel Ma De Rossi Non andranno mai Quindi 10 No 5 6 7 Il 7 No Secondo me è il 5 Come riferimento basso Però francamente Lui fa un gol pure Col Boga Tirata oggi In testa In coppa In coppa Dai secondo 6 Sto cercando proprio di avere Credo sia un 5 o 6 Tempo Dai diciamo 5 Il ruolo è il 5 Dai Vai 5 Eh 5 No È il 6 7 No Non ce l'ho mai detto Non ce l'ho mai detto Il 7 Non l'avrei mai detto Non l'avrei mai detto Il 7 Francamente Questa era No Non ci siamo moriti Dessa cosa Sì E tra l'altro È strano Che non mi franno Guarda che io al Boga Sono sicuro C'è il 16 No 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 Il 16 no Perché Un mio amico C'ha la maglia sua Col 16 Sbagliato Sbagliato Ah ok Ah ok Ultima Ultima per noi Giusto Sì Allora Chi ha vinto Più titoli Da allenatore Del Chelsea Tuchel Ancelotti Vialli Di Matteo Questo dobbiamo vincere Questo non è difficile La più facile Che ci hanno fatto Beh se c'era Mourinho Era chiaramente Allora Di Matteo Me ne puoi ripetere Scusami Di Matteo Vialli Tuchel Ancelotti Allora Vialli E Di Matteo Li manderei A quel paese No Vialli Di Matteo No Mancelotti Ha vinto pure Ha vinto il double Sicuramente In Inghilterra Ha vinto il double E Tuchel Ha vinto Mi sembra troppo facile Ha vinto la Champions Il campionato del mondo La Supercoppa Europea La vince Tuchel Chelsea Oddio Chelsea Chelsea Atletico Madrid E no Non la vince Si Finisce 4-3 5-4 La partita Una roba del genere Con tanti gol Secondo me La vince Perché dicevamo Giorginio Non può non vincere Il premier d'oro Perché ha vinto tutto Bravo Quindi Quindi la vinta Bravissimo Quindi la vinta Lui l'ha alzata Ancelotti Ancelotti Vince sicuramente la Premier Vince per me Anche l'FA Cup Vabbè comunque 3 sono tanti 3 sono tanti Di Matteo 1 La Champions Ah però Allo stesso giro No Sto cercando il numero Di Matteo perde Ah no no Di Matteo Porca vacca però No no però Eh però dopo se vince la Champions Hai la Supercoppa Che ha fatto nel mondo Come Tuchel Eh non so E lì non mi ricordo assolutamente Però so più su Tuchel io Perché almeno siamo sicuri Io mi ricordo la Supercoppa Europea Che la vince con gol di Ivanovic O no Chi è questo? Quella è la finale di Coppa UEFA Quella è la finale di Coppa d'Europa League Ce dobbiamo muove Eh però che c'era Chi ha vinto l'Europa League col Chelsea? Non è che l'ha vinto Sarri Sarri Ah no no Maurizio Maurizio Non era quella Non era quella Ah grazie Ok non era quella Vabbè vai Vai E Ancelotti lo scartiamo? No Ancelotti è tu quella secondo me Porco miseria Dai andiamo su Tuchel Tuchel È Gianluca Vialli Questa qua io non l'avrei mai detta Deve essere sincero Vabbè Il primo che avete escluso Vabbè però così non miro Io non ci avrei mai Mi donano un paio i trofei Però Non ci sarei mai arrivati Che ha vinto è fegato Che ha vinto? Sì ha vinto Coppa di Lega Vedi con? Coppa di Lega Coppa di Inghilterra Ah sì sì Ah il Cielo di Sce Coppa di Lega Coppa di Inghilterra Coppa delle Coppe Coppa delle Coppe Vero Mi perdevo la Supercoppa Ci perdonerai Buon Gianluca Vai per il vantaggio Prima delle Ci stanno pure le domande bonus? In caso di Parigi No in caso di Parigi Abbiamo il match point Questo è il match point Allora Qual è No fammi vedere Qual è la nazione Che ha vinto più titoli Di capocannonieri Della serie Bellissimo Questa è clamorosa Danimarca Brasile Svezia E Francia No questa è clamorosa È bella Allora Tu guarda a me Che non possiamo rischiare Allora Danimarca Svezia Brasile Francia Svezia c'è Nordal Che ne ha vinto un sacco Di titoli Ha vinto tre titoli Di capocannoniere Ibrahimovic Ha vinto un titolo Di capocannoniere Quindi Potrebbe essere Svezia Perché c'è Nordal Farò una domanda Che farà infuriare Brasile alla fine Infuriare Marzio Amoroso La Fiorentina Aveva Armin Lui era Era svedese Era svedese E lui faceva sempre Non so Non era una domanda Non me lo ricordo La nazionalità Però faceva Cioè Il record Di ogni No è vero Quindi lui potrebbe essere Potrebbe essere Svezia Perché se hanno messo Danimarca Secondo me a caso È Svezia Perché per confondere Sì esatto Per dire guarda Il paese è Nord A Thomas Intanto non ha vinto niente Posso dire che nessuno È a caso Ah nessuno è a caso Perché c'è l'out L'outroppo della Danimarca Secondo me Nella top 4 Ok L'outroppo potrebbe aver vinto E l'altra la Francia È perché ci stanno Queste due grosse Ovvero Brasile e Francia Che attirano molto Secondo me il Brasile È Marzio Amoroso Tutta questa gente qua Però il capoglione brasiliano L'ultimo è stato Marzio Amoroso L'ho intervistato E mi disse così Secondo me è Svezia Proviamo Svezia Svezia dai Norda Allora se io non mi ricordo la nazionalità Ma se Armin è svedese Non me lo ricordo Neanche io Dai Norda Armin Sei svedese? Grazie per essere stati con noi Ragazzi alla prossima Ciao a tu Svezia Svezia Questa è buona Gran chiamata Armin è svedese È sicuro Questa mi fa rosicare un sacco Merode Cioè non Non mi erode perché Erano tutte dei ragionamenti Poi avevi un po' più di fortuna o meno A maggior ragione A maggior ragione A caso dei ragionamenti Cioè erano difficili Svedese Ma anche le sue Bravi ragazzi Bravi Ma Danimarca che è l'autorumpimenti Che ha vinto il titolo di capocarnieri Eh allora forse era Chi te lo dissi Coppietrella si va a casa Coppietrella si va a casa Te lo dissi Te lo dissi già Coppietrella si va a casa Che dobbiamo fare Niente No bravi Però ci farete la rivista Ci concedete la rivista No sì Sì forse Necessario Necessario Ragazzi grazie per essere stati con noi È stata una chiacchierata di calcio Come sempre è super Siamo andati anche lunghissimi Ma quando poi si parla tanto E si sta bene Alla fine È giusto lasciare corrersi È stata molto ricca Grazie al critico calcistico Ido Romero E a Fabio Pietrella Ciao a tutti ragazzi Buona serata Ciao ragazzi Ciao ciao